Buonasera a tutti e benvenuti alla rassegna letteraria Liberi di Parola. Ci troviamo nella sala di rappresentanza del bar Patrizia Grottaglie per dare il via a una rassegna organizzata da Cosmopolis in collaborazione con l'associazione culturale Coenè di Grottaglie. Una rassegna che si svolgerà in cinque appuntamenti dopo stasera infatti saremo qui il 23 di dicembre con Maurizio Bolognetti e il suo libro Buchi per terra 50 sfumature di greggio, giovedì 29 con Sergio Pargoletti e il suo ultimo libro Facebook e il principe e venerdì 13 gennaio con Marco Tarantino e con il suo romanzo Fratelli della Costa. Ultimo appuntamento il 20 di gennaio con Antonio Fanelli e il libro La ferita senza sangue. Ad ogni appuntamento grazie ad uno sponsor la Euronet che ha deciso di investire in cultura verrà donato un libro alle tre scuole superiori di Grottaglie, al liceo classico scientifico Moscati, all'istituto di istruzione superiore Pertinido Milani e al liceo artistico Vincenzo Calò che hanno deciso di tenere i libri nella biblioteca della scuola. Purtroppo Oronzo Fornaro non è potuto venire questa sera ma speriamo riesca a venire più tardi per la consegna dei libri. Vorrei ringraziare soprattutto voi per essere presenti qui stasera perché stasera Grottaglie pulula di eventi, ci sono tre presentazioni di libri, l'inaugurazione di una mostra, una collettiva di Antonio Caramia, ci sono poi eventi scolastici di ogni genere, dalle recite alle sfilate ai colloqui agli scrutini, quindi ringrazio anche i professori qui presenti per il ritiro del libro. A inaugurare la rassegna è qui con noi Angelo Mellone che ringraziamo e al quale farei un applauso, benvenuto, con il quale entreremo nella magia, nell'incanto d'amore del suo libro, in questa storia che si svolge fra Puglia e Basilicata, molto molto romantica e magica. E sono qui con noi anche il presidente dell'Associazione Culturale Coenè, Roberto Burano, benvenuto, e il direttore di Cosmopolis Vincenzo Carriero, dal quale partirei proprio per spiegare come nasce questa rassegna culturale proprio qui a Grottaglie. Innanzitutto era nostra intenzione presentare il libro di Angelo, che è un tarantino, anche se da tanti anni per motivi di lavoro vive a Roma ed è motivo di particolare orgoglio averlo qui con noi, se non sbaglio è la prima presentazione del tuo libro qui a Taranto. Io utilizzo Taranto per dire anche i comuni della provincia perché per me Taranto rappresenta non solo la città capoluogo ma anche la provincia. Farlo poi in una realtà grossa e importante come Grottaglie è motivo di, come dire, di importanza e anche di orgoglio doppio. Abbiamo inteso portare avanti questa idea perché riteniamo che sia importante che questa città, questa provincia riparta da un ragionamento che sia eminentemente culturale. I problemi che questa città e questa provincia oggi vive a volte in una maniera un po' falsa, errata, sono ricondotti soltanto verso alcune tematiche. Io ritengo che il problema di Taranto, per quel che può valere come microcosmo di una realtà più importante che quella del Paese, sia un problema eminentemente culturale e di ricerca delle identità smarrite. E quindi non si può che ripartire appunto da un dibattito, da una discussione che investa questi temi e che porti noi tutti a riflettere. Un tempo esistevano luoghi di riflessione e di confronto che oggi non ci sono più. Questo è un limite per la nostra democrazia e anche per la crescita culturale dei popoli. Riteniamo quindi che iniziative come queste, con la presenza di autori, di intellettuali, di scrittori, che con i loro libri anche un po' interpretano il Paese, il momento che il Paese vive, perché dietro ogni storia poi si cerano anche aspetti che possono essere più di carattere generale, che finiscono anche con diventare ragione di una crescita collettiva alla quale noi dobbiamo tendere. L'iniziativa di stasera, questa iniziativa, ha proprio questo bisogno, questa necessità. È chiaro che non staremmo qui se non ci fosse stato il gran lavoro, perché abbiamo preparato questa rassegna veramente in una settimana, se non ci fosse stato il gran lavoro da parte di Anna Rita, che è una giornalista, scrive con noi da qualche mese e per noi è importante che in realtà come Grottaglie avesse una corrispondenza che fosse quotidiana con tutte le attività che Grottaglie pone in essere, che devo dire la verità a volte sono anche maggiori di quelle della città capoluogo, quindi è stato anche un atto doveroso poter iniziare da Grottaglie questa nostra scalata. Il fatto che questa sera ci sia anche la Web TV a riprendere questa iniziativa rientra in uno sforzo, in un impegno costante di tipo editoriale, che noi stiamo ormai approfondendo da qualche anno, perché questa città, la sua provincia, riconquisti alcuni elementi di forte identità, scali delle posizioni che ha perso negli ultimi anni e si ricordi soprattutto che questa è sempre la seconda città della regione, il più importante centro industriale del Mezzogiorno d'Italia, con una storia millenaria che ne caratterizza le gesta e anche, pensiamo, le prospettive future. Grazie. Dottor Burano, lei è nel tessuto culturale grottagliese da sempre, non solo attraverso la sua associazione, ma anche attraverso collaborazioni personali con altre associazioni locali. È suo il libro sulla figura di Vincenzo Calò, una figura storica di Grottaglie, un medico e ceramista, di cui porta il nome l'istituto d'arte, l'ex istituto d'arte attuale liceo artistico di Grottaglie, è un'importante via di Grottaglie. Ultimamente ha pubblicato un libro insieme a Matichecchia, il professor Guglielmo Matichecchia, ex preside del Moscati, sulla figura di Federico Di Palma. Lei si è occupato di un appendice. Quanto è importante riscoprire la cultura del passato e i nomi illustri di un tempo? È sicuramente molto importante perché guardare il passato, non attraverso una sensazione di nostalgia, ma sotto un aspetto speculativo, ci permette sicuramente di poter costruire un futuro più sostenibile, perché nel mondo non succede mai niente di nuovo, ci sono degli eventi che si ripropongono, personaggi che si ripropongono, situazioni che si ripropongono, ma che hanno come attori persone diverse che danno anche un significato diverso a quello che può succedere. Nella vita di ognuno, ognuno di noi ha una sua missione che lo fa attraverso le sue opere. Queste opere durante la vita sono tanti puntini, sono tanti puntini che poi la storia riesce a mettere insieme e a congiungerli per far capire che tipo di disegno ci poteva essere dietro la vita di un uomo. La vita di Calò, per esempio, pur essendo un medico condotto, pur essendo una persona che è stato uno dei più grandi imprenditori perché ha portato la ceramica ad essere a livelli nazionali competitiva e nuova, innovativa, è un atto d'amore. La sua vita è stata un continuo atto d'amore nel donarsi alla gente, perché era un medico, ma nel donare anche e far sì che nella sua azienda, per esempio, fossero messe insieme una serie di iniziative e di cose che guardavano alla salute dei dipendenti. Era antisignano anche in questo, cioè sicurezza sul lavoro in una persona che è vissuta a cavallo del XVIII secolo e del XIX secolo, 1866, nato, morto nel 1923, era qualcosa che andava al di là quando si pensava che a grottaglie per poter lavorare le ceramiche si era in delle grotte sotterranee perché era l'ambiente naturale in cui si poteva trovare l'acqua, l'umidità e quelle condizioni particolari per cui le ceramiche potevano essere plasmate e seccate e cotte, ma erano sicuramente non saluri. Erano momenti in cui venivano fuori alcune malattie professionali che hanno avuto poi un'esplosione successivamente, il piombo con cui venivano trattate queste ceramiche, l'umidità e quindi le muffe, ci sono tutta una serie di cose che questo personaggio ha portato avanti e ha cercato di tirar fuori e di minimizzare. E quindi questa è una vita. L'altra vita Federico Di Palma è la ricerca di un'identità che noi abbiamo perso. Taranto è una città che è stata violentata, il suo territorio è stato violentato, cioè noi abbiamo avuto l'impressione che si potesse creare un benessere attraverso l'industrializzazione e non si è capito invece che quell'industrializzazione selvaggia che è stata portata, ha portato semplicemente alla lunga solo danni perché ha ucciso determinate cose e determinate economie che potevano essere trainanti per Taranto e la sua provincia. Ha ucciso la miticultura, l'arresta completamente non possibile, ora comincia a essere sostenibile. Ha ucciso la miticultura, l'agricoltura. Noi siamo riusciti a creare un nuovo mestiere, il metal mezzadro. È praticamente una persona che faceva il mezzadro prima e poi è passato a fare il metal meccanico, ha messo insieme le due cose e abbiamo distrutto completamente un'agricoltura. Abbiamo distrutto il nostro territorio attraverso le scorie e tutto. Quindi Taranto in cui si parla Taranto come città industrializzata, in realtà noi abbiamo avuto, proprio perché i nostri politici sono stati scarsamente lungimiranti, abbiamo subito semplicemente sulla nostra pelle tutto ciò che noi stiamo avendo ora, che viene amplificato o viene modificato perché si viene a parlare di cosiente intellettivo diminuito in provincia di Taranto. Non mi permetterei mai di scrivere una cosa del genere, perché poi arrivato a questo punto, se dovesse essere un mio figlio che viene considerato un diverso, dico per questo, che ci siano delle altre alterazioni legate a cose dell'apprendimento. Questo è certo, è sicuro, perché l'ambiente che noi andiamo a violentare, che andiamo a modificare, ce lo fa pagare. Ci fa pagare tutto. La cultura è sicuramente quella cosa trainante, la cultura intesa a 360 gradi, in cui veramente uno non pensa semplicemente all'ambiente, pensa alla scuola, ma è legalità e tutto. Questa è la cultura che intendo io. Grazie. Avrei fatto più in là la domanda, ma visto che siamo entrati nell'argomento, mi sembra doveroso anticiparla, così poi entriamo nel vivo del libro. Ultimamente lei ha rilasciato un'intervista a Cosmopolis, in cui si parlava proprio di questo argomento ambientale. Un'intervista che ha creato non pochi malumori. Quando non dice la verità? C'è chi non ha condiviso, si è sentito offeso e provocato dalle sue dichiarazioni. Lei cosa risponde? Le interviste io semplicemente prendevo atto di una questione che mi sembra abbastanza evidente, che poi il rapporto che citava il dottore prima, invece io ovviamente do la lettura che dà quel rapporto. Ovvero che io abitando, o avendo abitato 15 anni anche a Roma nella zona di Villa Regina Margherita, ho assorbito gli stessi veleni che assorbe più o meno un cittadino di Taranto, anzi dei quartieri di Taranto, più vicini a Sidruggio. La differenza è che Roma da quattro anni e mezzo non viene, l'immagine di Roma non viene devastata da una campagna di rovina dell'immagine di una città che fino a quattro anni e mezzo fa era conosciuta per essere la città dell'acciaio e delle cozze e che adesso è la città che alcuni magari si rifiutano anche di attraversare perché sono convinti che la gente muoie in mezzo alla strada. Ovviamente questo non è vero. Quel rapporto dimostra chiaramente che Taranto è una città che avendo avuto una forte industrializzazione, che non è l'industrializzazione da grande industria, ricordo che l'industrializzazione da Taranto nasce con l'unità d'Italia, nasce con la malmeccanica, nasce con la marina, con l'aeronautica, con l'antiritosi, quindi con l'industrializzazione prima militare e che la siderurgia arriva solo dopo, anche e soprattutto per assorbire una disoccupazione di mano d'opera qualificata che si è venuta a creare perché avendo noi perso la guerra l'arsenale ha lasciato 6-7 mila tecnici specializzati a spasso in una situazione di disoccupazione strana per la fine degli anni 50 che grazie al complesso della grande industria quella disoccupazione non solo è risolto un problema drammatico di disoccupazione che c'era in quel territorio ma addirittura ha permesso a Taranto, una cosa che ci dimentichiamo tutti quanti, che ritengo storicamente disdicevole di essere stata per tanti anni l'unica città di immigrazione di tutto quanto il meridione, dove sono venuti a lavorare da tutta la Puglia, dalla Calabria, dalla Campania, dalla provincia di Latina eccetera, questa è una cosa che da Tarantino sono uno di pochi scemi a ricordarlo e lo ricordo anche con orgoglio, evidentemente se uno chiedesse oggi tu faresti uno stabilimento così grande lì un pazzo risponderebbe di sì, col seno di poi, ma probabilmente col seno di poi non faremmo città di 4 milioni di abitanti, con urbazione di 5 milioni di abitanti, con i problemi ambientali che ha una città come Roma, dove ripeto la differenza, non ci sono comitati di fantomatici che fanno i 6 per 3 dicendo che a Roma tutti quanti muoiono di malattie gravissime, perché anche l'immagine, il bene immateriale di una città vanno preservati tanto quanto i beni materiali, evidentemente lo stabilimento di Taranto, quindi il sistema industriale di Tarantino ha inquinato anche tanto, quello che ci dice invece quel rapporto che io leggo con serenità e quindi non con l'allarmismo e con l'allarmismo apocalittico di questi anni, quel rapporto dice una cosa importante, che oggi la situazione dell'aria della salute a Taranto è migliore rispetto a anni fa, perché lo stabilimento produce di meno, però non c'è l'apocalisse in questa città. Io credo che da 4 anni e mezzo, e lo dico da dirigente RAI, per il poco da Tarantino ho fatto, per il poco, tanto, io ho dedicato a questa terra, nei limiti delle mie possibilità, perché ovviamente la RAI non è una proprietà privata né mia né tantomeno di Tarantino, l'ho fatto perché era giusto farlo, quando ho potuto ho dedicato trasmissioni per raccontare la bellezza di questi territori, proprio da Grottaglie, una volta con Eleonora Daniele, non ero io responsabile di La Verde, ma mi chiamarono, facevo una bellissima trasmissione su tutto l'interno di Tarantino, sull'agricoltura, puntate di Linea Blu sono state fatte, abbiamo fatto l'ultima puntata quest'anno di Top, una trasmissione di moda dalla città vecchia di Tarantino, che ritengo sia uno dei beni culturali poco e male utilizzati, che dovrebbe essere rilanciata, ripresa, rimodulata, insomma, certamente il concentrato di tutti quanti i miei ragionamenti è questo, se come giusto noi diciamo che Tarantino deve superare la cosiddetta monocultura industriale, perché è giusto che sia così, siamo in epoca post-industriale, avere solo industria pesante o grande industria, è una situazione territoriale antistorica, ma lo sviluppo non si fa con o-o, cioè togliendo qualcosa e mettendoci qualcos'altro, soprattutto in una situazione come questa, con altissimi livelli di disoccupazione, con un'immigrazione intellettuale che non a caso comincia quando comincia la crisi dell'acciaio di una città che ha più che raddoppiato la popolazione dal dopoguerra in poi, lo sviluppo si fa per sommatoria, io per esempio, volevo dire, Grottaglio, Grottaglio è una cittadina, una città a cui sono particolarmente affezionato per mille ragioni, i servizi dei miei genitori di nozze sono tutti qui, sono stati fatti tutti qua, ho due cugine che hanno fatto la scuola di ceramica che abitano in un paese qua vicino, quindi a Grottaglio quando posso ci vengo, io personalmente faccio parte degli agit prop di promozione del territorio, non mi paga nessuno, non sono dell'APT, lo faccio semplicemente per amore di una terra e della verità di una terra che già adesso è bella, quello che diceva prima il dottore, non è vero che la meticoltura è stata distrutta, oggi le cozze di Taranto sono le cozze più sicure del mondo, il problema è che se noi continuiamo a dire che le cozze di Taranto sono in quel... non è vero, se uno va all'Asa e ti dice le cozze di Taranto sono le più controllate, le più scientificate, le più buone, le più salubre, le più sicure, allora io rispetto a quelli dico mamma mia ma tu vivi a Taranto, sei di Taranto, una cittadina, guarda una città meravigliosa, con un mare fantastico, che si vive benissimo, che ha un territorio, un interland meraviglioso, da Castellaneta fino a Manduria, diciamo a Vetraria, non è bellissima, però più o meno il territorio è abbastanza grande e lo è già ora, allora lo sviluppo si fa per sommatoria, si dice benissimo, la grande industria ha ambientalizzata, come è evidente che sia, ripeto, nessuno nega la realtà dell'inquinamento, ma non è che togli l'inquinamento, ci metti il turismo culturale, ci metti l'agriturismo, ci metti i beni culturali, ci metti, come dire, uno sviluppo microindustriale di cui grottaglia appunto l'artigianato, questo insomma è uno dei posti di eccellenza italiana, artigianato, cioè metti insieme tutte queste cose e salvi un territorio. Certamente la campagna tafazzista, come dico io, di delegittimazione, di devastazione dell'immagine di un territorio che viene continuato a fare da un pezzo, una minoranza rumorosa, ma, come dire, influente per curuna di più di Tarantini, è una cosa che sta ammazzando l'immagine di questo territorio ed è una condizione di documento all'immagine, perché ripeto, se qua vogliamo fare il turismo non puoi dire che questo è l'inferno, perché si dice che questo è l'inferno qualcuno mi trovi un cretino che viene a fare il turista all'inferno, mi sembra un ragionamento banale, quasi scolastico, elementare, inconfutabile, è una sioma. Tra le tante cose, così vengo un secondo al libro, perché se no ora finiamo più e parliamo di Tarantino, tra le tante cose, una delle, personalmente, per quel tanto poco che può fare, adesso tolgo i pani del dirigente di Raiuno che fa programmi televisivi e metto la ragione per cui sono qua e ringrazio, tanto e mi scuso per il ritardo, ma devo dire la verità, ero arrivato, ho dovuto fare il giro da Roma oggi per una questione legata all'organizzazione del Capodanno, sono dovuto stare in Basilicata, in Calabria, ero arrivato in orario e come potessimo reale, il comune amico Peppe Carucci siamo rimasti bloccati mezz'ora perché c'era un tamponamento abbuffoluto, quindi sono arrivato anche in orario preciso, quindi mi scuso per il ritardo, ma davvero non era dipendente da me. Un'altra delle cose che si può fare, che si deve fare di questo territorio e delle infinite potenzialità di questo territorio è saperlo raccontare, un territorio si racconta con le fiction, si racconta con le trasmissioni televisive, si racconta con le serie radiofoniche, si racconta con i fumetti, si racconta con i libri, si racconta con le storie, poi magari se i libri diventano cortometraggi, lungometraggi, lavori multimediali è meglio, però uno parte in questo caso dalla carta è dalla piacere, dalla bellezza della scrittura. Incantesimo d'amore che cos'è? Non ho ben capito ancora che cos'è sto libro, cioè il Incantesimo d'amore nasce perché a un certo punto un mio carissimo amico, io sono un autore, diciamo Baldini e Castoldi, diciamo è la mia caseritrice, ho chiesto a loro la deroga perché che cosa mi era stato chiesto? Gli scrivi per una caseritrice calabrese, Pellegrini, questo mio caro amico è diventato direttore editoriale, ha detto mi scrivi un libretto, qualcosa, scrivi un racconto breve, una cosa di Natale, 40 pagine, 50 pagine, eccetera. Io avevo pensato tutt'altro, cioè avevo pensato di cominciare, cioè di fare un libro che raccontasse una storia d'amore normale, cioè tra due persone normali, perché di solito noi siamo abituati a quelle storie d'amore che sono tormentate, ci sono traumi, drammi infantili, rotture esistenziali, cose complicatissime, invece noi raccontiamo una storia d'amore di due persone normali. E non a caso i protagonisti del libro, e mi scuso, nella difficoltà di raccontare, fare una presentazione di un libro, quando tu presenti un libro qualunque, devi dire il tanto da interessare la gente, ma non tutto perché sennò che cosa se lo comprono a fare, quindi bisogna sempre giocare in questo tipo di mediazione. Comunque i protagonisti sono due persone assolutamente ordinarie, normali, per certi versi anche quasi banali, no? C'è storie che, cioè le storie hanno senso di essere raccontate se cedono, se ci sanno qualche punto di eccedenza da qualche parte, perché insomma raccontare che tutti i giorni si sveglia fa sempre le stesse cose, non ha un'efficacia narrativa. E infatti diciamo Maria è una commessa di un negozio di articoli sportivi di Pisticci, un paese della provincia di Matera, ovviamente è un negozio che non esiste, non credo che esista un negozio di articoli sportivi a Pisticci, e Giuseppe, che è originario di Bernalda, però lavora a Salerno e fa l'impiegato a Fisciano, alla facoltà di scienza e comunicazione dell'Università di Salerno. Maria c'è 30 anni, Giuseppe ne ha 40. Ero partito così, volevo raccontare questa storia che si svolgeva, infatti il titolo originario era L'amore breve, una storia che si svolgeva a ridosso della settimana di questo Natale. Non a caso il libro, vedete, comincia il 16 dicembre 2016, comincia domani, no, quest'anno comincia domani, quindi chi lo compra domani? Sì, sì, no, è perché comincia il 16 e finisce il 25, per cui vedrete per esempio c'è Sassuolo Inter che ci sarà domenica prossima, io sono andato a vederla perché mi serviva anche l'orario, perché c'è una scena in un centro commerciale in cui sentono, la protagonista sente delle urla perché dovrebbe aver segnato l'Inter, almeno se vuoi dire una previsione che ho fatto, quindi vedremo se sono stato buon profetto. Quindi sono questi nove giorni e chiedo scusa agli interisti perché potrebbe anche portare un po' male. No, ma io sono raziale, siamo cugini con gli interisti, io spero di portarli bene, o dico anzi no, però no, spiego anzi no, per non dire che porto sfiga a nessuno, a un certo punto si sentono delle urla, essendo Sassuolo Inter, Maria crede che, probabilmente non credo ci fossero 20 tifosi del Sassuolo al centro commerciale di Policoro, trovare 20 tifosi del Sassuolo, che sentono delle urla che ha segnato qualcuno, finirà 0-0. L'impianto rimane esattamente questo, qual è il passaggio, e non mi ricordo come è stato questo passaggio, è appunto il lato incantesimo. Come voi sapete, queste sono terre che hanno un'altissima densità di storia magica. Si sa forse di più della Lucania, ma insomma da, come dire, le donne tarantate, o tarantate o tarantolate, a seconda che vogliamo, passando per tutto il lungo fenomeno dei maciari e delle maciare, poi se maciari o maciare a seconda delle zone, dei maghi, degli stregoni, delle streghe, cioè queste sono terre dove, Ernesto De Martino direbbe superstizione popolare, io che sono meno materialista, comunque parlo di spiritualità, di una terra, l'elemento magico è fortemente presente, ovviamente mischiato poi con anche elementi molto banali, la gelosia, l'amore, la malattia, i rimedi, per esempio ho scoperto facendo il Capodanno, quest'anno rifacciamo il Capodanno di Raiuno a Potenza, lo seguo io, però facciamo una serie di video su cinque paesi all'anno della Basilicata, ho scoperto per esempio che mandare a quel paese, quel paese, un paese della provincia di Potenza, che si chiama Colobraro, e che siccome era notoriamente portava, esattamente, bisogna fare gli scongiuri, provincia di Matera, perdonami, Colobraro, scusa, andare a quel paese tutto, ha fatto che non si può, esattamente, vicino a Valsicis un passato oggi, tra l'altro, siamo andati tutti quanti a quel paese, che non si poteva nominare, quindi vai a quel paese per dire vai in un posto dove, per esempio, lì simpaticamente hanno preso questa tradizione del malocchio e adesso tu vai e fai tutta una serie di percorsi a quel paese, quindi l'elemento magico è molto presente, allora non so, a un certo punto, per magia l'elemento magico è entrato in questo libro, nella forma di che cosa? Dico solo chi sono gli attori? di tre folletti, che queste, i monachicchi, i monacille, i monacid, lauro, è vero, lauro è già più, perché qua siamo, è già a Salentino, fino a Tardo si chiama monacid, in Bretagna si chiamano folletti, da un'altra parte gnomi, ma insomma sono sempre dei bimbi tendenzialmente, o comunque degli esseri delle fattezze molto dispettose, in questo caso, che appunto fanno dispetti durante la notte, fanno scherzi, sono come dire bambini pestiferi, o in altro tipo di tradizioni sono, hanno dentro, per esempio, ho comprato un gioco ai miei figli, dentro il campello hanno denari, hanno soldi, perché se tu gli riesci a togliere il cappello ti trova nei denari. Questi tre monacidi invece io non li uso per una serie ragioni per, vuol dire, né fare scherzi, né per essere portatori di monete d'orio che si trovano, ma li uso come specialisti di incantesimi d'amore, perché loro a un certo punto conoscono un personaggio, che è un personaggio fortemente legato alla settimana in cui si svolge la cosa, che nella mia testa è un druido cacciato dai romani, dalla gallia, è finito nella gravina di Massafra a fare lo stregone, che incontra questi tre folletti nell'anno nel 1016 gli insegna, dice, ma voi dovete coltivare i doni d'amore, non dovete stare a pensare nei miei soldi a fare scherzi, quindi gli insegna, vuol dire, pozioni, incantesimi, gli insegna la gravina di Massafra, per esempio, a proposito di territorio, se la Bretagna o il Galles o la Sturie o il Veneto avessero un decimo della storia che era chiusa nella gravina di Massafra, quello sarebbe un posto ad altissima densità turistica. Parliamo di magia? Nella gravina della Madonna della Scala c'è, per esempio, la farmacia del Mago Maguro, che è una cosa che sembra veramente un gioco. Il Mago Maguro era una grotta rupestre che sembra davvero una delle vecchie farmacie, insomma, le farmacie quelle con tutti i tavoli, scusatemi, con tutte le scaffalature, perché tu entri dentro, sono loculi, sono loculi o sono urnette votive, però sembra veramente una farmacia, c'è il Noce dei Maghi, il Ponte della Maciaretta, quindi non li potrebbe costruire rappresentazioni teatrali, storie, percorsi, potrebbe costruire... Come sei venuto tu, Angelo Mellone, a conoscere queste cose, perché ero da un mio amico che c'è un ristorante a Massafra, dico, stavo pensando di fare una storia con tre folletti, di Massafra è piena, quindi mi sono andato a documentare, e in effetti, addirittura, andandomi a documentare, considerato, quindi ero specialisti di esoterismo, Massafra come il posto più alta densità magica di tutto quanto il Meridione. Comunque, con questo druido che, ripeto, nella mia visione un po' matta, ha molto a che fare con Natale, questi tre folletti si incontrano mille anni fa e si dà un appuntamento mille anni dopo, loro nel frattempo da bambini diventano pupazzi, diventano proprio pupazzi, che però si muovono, però sono pupazzi, quando stanno fermi sono pupazzi di stoffa, e si dà un appuntamento perché loro devono realizzare, per poi ritornare nelle loro fattezze, un incantesimo d'amore. E quindi l'elemento, vuol dire, magico, esoterico, alchemico, fortemente pagano, anche dal mio punto di vista, che sono... a me piace molto tutto quello che c'è prima del cristianesimo come religione, come mitologia, come mitografia anche di questi territori, troppo ce n'hanno. Quindi è l'elemento magico e si incontra con Maria che vede il pomeriggio uomini e donne con la nonna in televisione, con Giuseppe che va a fare la partita di calcetto, cioè due vite assolutamente ordinarie sotto cui invece si muove una specie di complotto magico che non ha nulla di, come dire, esotericamente denso, ma è semplicemente un gioco perché che cosa volevo fare? Maria a trent'anni e Giuseppe ne ha quaranta, mi sono fermato, infatti i pochi amici che l'hanno letto, compreso l'editor, hanno capito una cosa, io volevo scrivere qualcosa che anche per noi quarantenni potesse dimostrare che anche a quarant'anni puoi leggere una fiabba. Sapete la differenza tra fiabba e favola, la favola ha un valore morale, ha una, le favole di, ha un, come dire, ha un fine di lettura della società, la fiabba c'era una volta. A quarant'anni si può anche trovare l'amore? A quarant'anni si può ancora trovare l'amore, ci mancherebbe, io che sono separato con due figli, ci mancherebbe se pensassi non puoi più trovare l'amore a quarant'anni e ti butti dal ponte della Maciaredda alla gravina di Massafra e dall'altro punto di vista, appunto, ecco, questa è proprio una fiaba, il c'era una volta, non dico c'era una volta, ho utilizzato un'altra formula che ho deciso, siccome questa è la prima di un trittico, questo è incantesimo d'amore, sia quel che sia, fosse quel che fosse, mi sono inventato questa formula sempre un po' così narrativamente fiabbesca e ne è venuto fuori una cosa che credo insomma tu che l'hai letto sia piacevole insomma, e soprattutto come fiaba, eh? L'ha fatto leggere anche a me. Io proseguirei un attimo su questo filone magico, chiederei al dottor Burano che prima stava anche parlando di magia e la magia nel nostro territorio, c'è una magia positiva ma nel nostro territorio c'è stata e c'è ancora anche una magia negativa, questo rapporto fra il lato oscuro e il lato... L'affascino. Sì, diciamo così, se noi prendiamo il concetto di magia che è un concetto importante perché attraverso la magia noi siamo riusciti a fare l'astrologia, i magi, coloro che guardavano e cercavano di indovinare qual era il futuro, guardando le stelle e andando a fare una mappatura di quelle stelle, sono stati coloro i quali hanno costruito la nuova astrologia, hanno dato le basi per costruire l'astrologia. Quindi queste persone che talvolta parlano di magia, penso che sia un surrogato di quello che poteva essere inizialmente il mago, che aveva una forma di cultura perché cercava di andare a capire che cosa poteva esserci di nascosto intravedendo nelle interiore, andando nel libro dei morti degli egizi, si riuscivano ad avere dei segnali che potevano modificare quello che era il nostro percorso di vita, oppure cercare di divinare alcune cose che potevano accadere. Il tuo libro mi è piaciuto, sai perché? Perché innanzitutto, salto un po' dalla magia e vediamo un po' che... leggendolo, mi è venuto in mente due vite parallele. Vite parallele? Ho detto sì, ma forse qualcosa ce l'hanno in comune con vite parallele di Plutarco. Sono due modi di comprendere, perché Plutarco prendeva in considerazione la società greca, la società romana, fare il paragone per far vedere chi era la più bella. Lui fa vedere due società diverse, però non sono vite parallele queste, perché sono vite parallele che poi si incrociano. Quindi sono delle vite parallele che riescono a rompere quella geometria, entrare in contatto per fare che cosa? Per fare una cosa bellissima, far... giustamente ho detto non è una fiaba, non è una fiaba, non è una favola, è una fiaba, sì, ma anche la fiaba nel suo modo di andare avanti e di leggerla o di raccontarla, permette di modificare e fortificare alcune virtù, una virtù teologale e la speranza, ed è questo del libro. Cioè è un modo diverso per poter parlare e fortificare quello che può essere l'unica ragione che ci può mandare avanti, perché la speranza è qualcosa che noi speriamo che avvenga, a differenza per esempio delle certezze o di alcune cose che tu devi per certo, dove tu puoi avere la delusione, le aspettative, l'aspettativa è bruttissima perché tu puoi avere la delusione e l'aspettativa, nella speranza tu non hai delusioni, hai semplicemente la speranza che qualcosa cambi. E nel modo anche di scrivere queste vite parallele ho pensato proprio ai viaggiatori del XVI secolo, no? Che andavano in giro, disegnavano i luoghi che trovava, disegnavano che cosa? La magia anche di quei posti e lui ha saputo creare in questi viaggi, in questa vita proprio che ha descritto come viaggiatore, questi due mondi diversi che alla fine si toccano, si meticciano e danno origine alla speranza. Gesù? No? Dice Giuseppe, Maria, Natale. Qualcosa diventa uomo, qualcosa diventa vita, è una cosa importante perché poi alla fine mi è piaciuto, me lo so letto tutto in una giornata e mezzo, perché pur non avendo tempo, perché è la bellezza di come è stato costruito, è costruito veramente... Non l'avendo un libro. No, doppia valenza. Il XVI ha un valore magico perché è di corrente, nasce domani il libro. No, in questo caso devo dire la verità, ma voi pensate poi a porle alle coincidenze, il libro comincia a Pisticci il 16 dicembre, io domani lo presento a Pisticci, lui ce l'hai fatto apposta? No. Cioè no, nel senso che ovviamente lo volevo presentare a Pisticci, ma mi sono reso conto l'altro ieri e ho detto domani vado a Pisticci e comincia più o meno verso le serie... È un segno curale positivo. È un segno curale, no, no, la numerologia non lo... No, più che altro la cosa che ho fatto è che giustamente diceva il dottore, più che altro sono andato a, ma anche con grande foga, un po' bulimico, andarmi a cercare tante storie di territorio, no? Per esempio il quarto personaggio che non nomino più di tanto, Nicola, è Nicola, non accanto, quarto personaggio che si chiama Nicola, guardate un po' chissà chi è, i tre semplicemente perché avevo visto, cioè dov'è che mi è nata questa cosa di perché il druido e perché Nicola e perché il maciaro più famoso delle gravine massafresi, nell'epoca medievale poi si chiamava Nicola lo Pueped, sapete benissimo che vuol dire Pueped, forestiero comunque in generale, fuori dalla città, quindi il forestiero, Nicola il forestiero, perché non c'è tutto, Nicola, ero la mattina e stavo scrivendo, ho preso la mia compagna, ha avuto pure una lampa, ho fatto Nicola, Nicola, no Nicola, Nicola eh, e allora mi si è chiuso il cerchio di una cosa, però non ve lo posso dire perché se no non ha, però diciamo che questa storia di Nicola mi ha aiutato molto a dare ancora una, diciamo una visione natalizia di questa storia, che poi ha un, infatti adesso non è per captarsi o bene voler, insieme alle prossime, perché i tre non se ne vanno dal territorio, cioè Giuseppe e Maria scompaiono, ma Gaspar Mercore e Baldassare continuano, quindi voglio spostare leggermente la, io voglio fare tutto, sono partito diciamo dalla zona nord della provincia di Taranto, perché ci sono Ginosa e Castaneta Marina, per capirci, oltre a Bernalda e Pisticci e Policoro, e Taranto evidentemente, perché io in qualsiasi libro, anche se lo scrivo in Lapponia, tre pagine su Taranto ci sono sempre, il secondo pezzo, il trittico arriverà qua, il terzo si sposta più verso il confine, voglio fare tre favole dedicate a tre zone della provincia, che hanno in comune e poi alla fine solo la parte magica, che hanno in comune, insomma la parte magica è una cosa importante, sì poi il resto cambia completamente tutto, però era come se fosse una specie di viaggio alternativo raccontando anche lo spirito dei luoghi e lo spirito anche profondo, con una chiave diversa, mentre questo l'ho pensato dopo, perché una cosa bella della scrittura che spesso capito, prima scrivi qualcosa, poi dice che perché l'ho scritto e poi ti dà tutte le spiegazioni esposte, perché se no dovesse partire carico di tutto questo, non incominceresti mai, infatti io ero partito per fare una storia di 40 pagine, 50 e ne è uscita fuori una di 220 con la via della stella con me. Lui leggesse proprio la fase terminale del libro, che era quello che diceva lui, guarda. Sì, infatti, va bene, va bene, va bene, un pezzettino, insomma, a ogni bacio, a ogni effusione dei due, chissà chi saranno questi due poi, questa è l'ultima pagina, la pelle di pezza scompariva e le gambe, le mani, il torace, il viso, il tre munachicchi diventavano tessuti, sangue, ossa, muscoli. Quando tornarono ad essere di carne, alti poco più di un bambino, Nicola chiamò uno a uno per nome, Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, adesso possiamo andare, disse loro, e in giro aveva abbandonato ogni posa severa, e aggiunse, sbrigatevi, è lungo il cammino della stella cometa. Ok, bravo, bravo. Perché quelli devono camminare, è la stella cometa, da Castaneda Marina fino a Betlemme è lunga la stella. Direttore, l'autore Mellone immerge in un mondo fantastico una realtà culturale del meridione, la realtà di una generazione, quella dei quarantenni, anche se parla dell'uomo, di questo ragazzo che poi alla fine non vuole lasciare la sua casa, che è legata alla sua casa, che non riesce a stare più di due settimane lontano dalla sua stanza, dalla sua mamma e dalla cucina della sua mamma. Questa è una realtà culturale, a parte questo lato un po' più frivolo e appartiene alla nostra terra però. Mi correrò obbligo però a ricordare che, visto che siamo nel Tarantino, credo che noi smarriamo molto spesso conoscenza identitaria anche sui nostri padri nobili. Si è parlato di magia, si è parlato di De Martino. Molto spesso noi tarantini dimentichiamo che abbiamo avuto un grande studioso di questi fenomeni legati al floccore, legati alla magia, legato alle tradizioni religiose. Penso per esempio ai riti della settimana santa che sono stati descritti negli anni 80, secondo me con un'intelligenza argomentativa e con una capacità d'analisi davvero molto profonda. Faccio riferimento a Don Alfredo Maiorana, che noi recentemente abbiamo anche riportato un po', perché noi tarantini abbiamo questo difetto, non abbiamo memoria. Angelo lo sosteneva in quella intervista alla quale faceva riferimento prima a Narita. Cioè Taranto è una città senza memoria, è una città smemorata. Noi qualche mese fa ci siamo recati all'ospedale, al cimitero dei Tamburi, dove c'è la tomba di Don Alfredo, ed è una tomba praticamente lasciata a sé, devastata. La città, l'amministrazione comunale, noi con un'inchiesta anche fotografica denunciamo lo stato di questa tomba, fa sì che uno dei più grandi studiosi di questi fenomeni, subito dopo De Martino, nella storiografia sui temi della magia, c'è Don Alfredo Maiorano, si è praticamente dimenticato non soltanto della città, ma l'amministrazione comunale lascia che questa tomba cada a pezzi letteralmente al cimitero del quartiere Tamburi, che è un quartiere dove è nato Angelo, ma sono nato anche io e quindi ci sono un po' anche questi aspetti affettivi che mi legano a quel quartiere e quindi proprio la mancanza di memoria, la mancanza di identità viene anche da queste cose qui fuori. Io devo dire anche un'altra cosa, leggendo il libro di Angelo c'è questo tema del sud, questi territori, la Basilicata, la Puglia, tra l'altro la Gravina di Massafra rientra in un ambito che parte dalla Terza, Ginosa, Castellaneta, la cosiddetta Via Francigena, che arriva fino a Grottaglie e quindi taglia in due completamente la provincia di Taranto, da Occidente ad Oriente, a proposito di alternative che questo territorio deve dare e di Agitprop, come richiama Angelo, che siano legati alla promozione del territorio. Non esiste niente di simile in Europa se non in Turchia. Le gravine in Cappadocia sono soltanto in Italia e in Turchia, quindi questo elemento morfologico un po' definito il nostro Grand Canyon è soltanto del Tarantino, neanche della Puglia, perché riguarda soltanto la provincia di Taranto. Io vorrei sapere quanti Tarantini sono andati per esempio a vedere la Gravina di Ginosa, dico per dire, o quella di Massafra. La Gravina della Terza è quella che ha la maggiore profondità. Insomma, gli elementi caratteristici di questo territorio, perché questo territorio si dia anche delle alternative, ce ne sono e ce ne sono tante, però qui entra poi in gioco il processo di crescita culturale, entra in gioco la buona politica, perché la buona politica o la pessima politica deve fare queste cose, senza inseguire le mode del tempo, scimmiottare qui e là. E c'è un elemento molto forte anche nel libro, poi Angelo mi dirà se io l'ho colto, perché poi è chiaro, dice un mio amico, nel momento in cui un libro si scrive, finisce di essere tuo e diventa dei lettori che lo fanno proprio e anche lo interpretano secondo quelle che sono le proprie leve di ragionamento e argomentative. A me ha ricordato in alcuni passaggi un autore che credo sia anche molto vicino ideologicamente ad Angelo, che è Marcello Veneziani con il suo Ritorno al Sud. È un libro che ho letto qualche tempo fa, premetto che da Marcello Veneziani e anche da Angelo dal punto di vista ideologico mi divide tutto, perché come dire dal punto di vista delle tesi molte volte siamo su posizioni diverse. Però ecco, la capacità di Marcello Veneziani in quel libro di raccontare un certo Sud nei suoi aspetti, lui parte dalla sua bisceglie e racconta anche per esempio questa siesta pomeridiana, la malora, e quindi poi da qui fa partire tutta una serie di valutazioni anche legate alle nostre movenze, ai nostri tic, alle nostre caratterizzazioni più forti che caratterizzano il Sud. Tra l'altro c'è un'affermazione, Marcello Veneziani è brillantissimo, mi piace per questa sua verba. Una volta ebbe in modo di intervistarlo, mi disse Vincenzo ma noi che ce ne facciamo di questi del Nord? Loro hanno il sole 24 ore, noi abbiamo il sole ogni momento, quindi siamo molto più avanti di loro, che ce ne facciamo del sole 24 ore, qui il sole c'è. E quindi no, volevo chiedere proprio ad Angelo se questo ritorno, tra l'altro lui ha scritto anche dei libri in cui la tematica del Sud è proprio presente già nel titolo. Se questa dimensione di un mezzogiorno, questa dimensione di un Sud sia tema non solo ricorrente ma anche tema dal quale ripartire, per chi come lui è un'intelligenza emigrata, andata via, ma lo ha detto poc'anzi, può scrivere anche un libro dalla Lapponia, tre pagine su Taranto ci devono essere sempre. Tempo, vero? Sì, sì. Allora, evidentemente, intanto, ecco, devo dire la verità, non capita spesso di, lo dico, anche facendo la mia colpa, non capita spesso di venire presentato a tre persone che hanno letto il libro che stanno presentando, quindi già questa cosa è una cosa che è stata molto bella. No, ripeto, è una colpa che io presentandone tanti, ogni tanto ci sono un po' di giochetti di espedienti che uno fa. Infatti, grazie. Allora, quello che diceva Vincenzo, io rispetto a Marcello Veneziani, diciamo, come impostazione culturale, io sono l'ipermodernista, cioè volendo fare il gioco delle famiglie della destra culturale, cioè lui è il conservatore, io mi sento vicino ai futuristi, in questo caso sono un industrialista, ma lo dico felicemente, tant'è che, una cosa che dico, che non rinfaccio, ma rimbrotto ogni tanto qualche tarantestano, c'era riscoperta la spartanità, no? Che a me fa piacere, io c'ho un elmo spartano, ho dato che prima che si inventasse la Spartan Race, però io dico, se gli spartani avesse avuto il sito chirurgico ci avrebbero fatto l'atomica dentro, c'era una civiltà guerriera quella, insomma, ci avrebbero costruito la città dentro il sito chirurgico, non il sito chirurgico dentro la città, se gli spartani avesse avuto l'acciaio, evidentemente, sarebbe stato acciaio bellico. C'è stato un ex presidente del Consiglio che si è avvicinato un po' a questa tua affermazione. Esatto, esatto, esatto. Il tema del rapporto col Sud, io penso che questa è una cosa che capita, diciamo quasi tutti, io mi ritengo un emigrato, un po' particolare perché appunto da figlio dell'acciaio sono metà tarantino e metà genovese, per storia personale così, però io mi sono sempre considerato profondamente meridionale e profondamente tarantino nella consapevolezza che Taranto è una città dissonante rispetto al meridione comunemente inteso, proprio per la sua lunga storia industriale, nel bene o nel male, adesso non ne sto dando un giudizio di valore. questa è una città dove lo stesso dialetto si è modificato tantissimo, io faccio sempre lo stesso esempio, se voi sentite il tarantino non ha le vocali, le vocali non esistono, se invece tu senti parlare un pezzo di tarantino e soprattutto le donne, quelle un po' più dicono vero, perché, no veramente, cioè come stai. Allora dici, come fai, perché hai questo tipo di parlato con queste vocali sciancrate? Perché è uno studio che ho fatto col mio amico scrittore Cosima Argentina che su Taranto ha scritto dei libri meravigliosi. Perché dice che Taranto non è in Puglia ma è a Taranto. È a Taranto, non lo dico anch'io, infatti ma poi la Puglia vuol dire come, già qua per me è più salento, ma insomma ognuno, c'è Taranto è Taranto, c'è Taranto è una città chiusa che guardava verso il mare e magari verso Napoli, c'era Porta Lecce e Porta Napoli ma non è una città che ha irradiato chissà che cosa nel suo territorio, è già Grottaglio un'altra cosa, Castellaneta non ne parliamo, Manduria con Taranto ha più a che fare con non è una città che è tutta spiaccica da lì, ma perché comunque è una città di sanguimisti? Allora per esempio questa cosa è l'epocare aperte perché proprio con diciamo prima con la marina, l'aeronautica ma soprattutto con la siderurgia sono arrivati molti calabresi a Taranto e il calabrese parla con l'epocare aperte, tant'è che a un certo punto il dialetto e la parlata della città vecchia era una cosa, quello della città nuova dove questi condomini che proprio Mimma Argentina racconta in maniera fantastica dove tu a ogni piano sentivi 20, cioè 10 dialetti diversi, 10 accenti, anche io stesso dove abitavo a Taranto me ne stavo facendo il riassunto l'altro giorno e una famiglia veniva da Picerno e un'altra veniva da Matera e un'altra erano marchigiani e gli altri erano di Bari e quegli altri erano di Lecce e quelli della provincia di Brindisi, cioè Taranto è stata una città di miscuglio, è stato l'unico esperimento mediale come dire di mescolanza delle regioni, delle province, questa è una cosa che mi trovo paradossalmente ad essere l'unico a ricordarlo che invece è proprio un fatto costitutivo di un'identità fluida nel bene e nel male. Comunque il rapporto del territorio, Marcello ha un approccio nostalgico col Sud, che io non ho e che fondamentalmente ritengo, non dico poco rispettoso, poco utile a raccontare il Meridione, tant'è che tu carinamente hai ricordato, io ho scritto una trilogia teatrale sul Sud, il cui primo capitolo si chiamava Addio al Sud, un comizio fiorioso del disamore, perché parte dal fatto che uno a un certo punto è costretto a 18 anni a fare la valigia e andarsene dalla terra da cui magari non vorrebbe andare via, cioè tu sei costretto, sei forzato ad andare via, non stai scegliendo, certo scegli, le alternative spesso che ti presenta il tuo territorio sono talmente poche, scarse per il tipo di lavoro come vuole fare che alla fine sì, nessuno ti spunta la pistola alla schiena, ma alla fine si è spinto ad andare via. Il problema è tanto andare via, perché andare via, andare per tornare è sempre molto bello, significa arricchimento culturale, significa appunto contaminazione nel senso per il termine, la maggior parte però della gente che soprattutto nel 1991 sono fatti i conti, noi abbiamo avuto, questo territorio ha avuto una emigrazione intellettuale, una emigrazione di classe dirigente potente, che ha regalato classe dirigente all'Italia e all'Europa, ma che ha depauperato come forma di depauperamento del territorio, c'è però questo che spesso i più, i più coraggiosi o chi va via, va lontano, poi magari torna per la settimana santa o per le vacanze natale, per mangiare le pettole il giorno di Santa Cecilia ed è finita la tarantinità, la birra raffo, il tarantocalcio ed è finito di risolvere il problema di taranto. A me la tria di settimana santa, birra raffo, non risponde sia che la fanno anche a Roma, fanno a Roma sulla Tiburtina, questo tipo, questa identità debole tarantina non piace, c'è qualcosa di più serio sotto che andrebbe coltivato, riscoperto e valorizzato. Il rapporto con lo studio invece, secondo me la tradizione, quando tu la, non la riscopri, quando tu la rivivi, alla fine, tradizione nella sua stessa radice ha proprio l'idea del tradimento e del trascinamento, del portare, quindi tu porti qualcosa del tuo passato e lo vivifichi, lo rendi presente, lo incani in qualche cosa di sempre nuovo, quindi a me non serve, non interessa il quadretto, l'oliografia nostalgica, l'oliografia nostalgica si invecchia, magari si costruisce una buona cartolina agrituristica, ma non si fa un favore a un territorio e Marcello da questo punto di vista per una serie anche sui vicende personali c'è questa, secondo me, involuzione fortemente nostalgica, invece penso che proprio l'immensa potenzialità narrativa di questo territorio vada, vuol dire, esaltata, non, io la controllo e non la sopporto, la malora è una cosa che mi mette là, cioè questa idea di questo sud lento, l'andare le, la vecchia, la vecchia, il punto di vista del professor Cassano, con il suo pensiero meridiano, in addio al sud io faccio cinque pagine, essendo un monologo che io recitavo a teatro, io faccio cinque pagine contro il pensiero meridiano, quindi se stavi citando Cassano, c'è proprio, ecco, io il pensiero... Che tra l'altro anche Cassano non è proprio originalissimo perché lo prende da Camus, quindi... Da Camus ma anche dal mostro, da tutta la scuola, da Caillet, dalla Duce, ma adesso qua dirazziamo, però il pensiero meridiano non è qualcosa che, cioè questa idea della lentezza, la lentezza se riflessione, se godere della bellezza delle cose perché hai tempo per farlo, va benissimo, se, come dire, la scusa per fare il pisto, cioè la difesa del pisolino pomeridiano che ti ricorda le ore della siesta, della pigrizia, dell'impiegato comunale che fa finché, mentre dall'altra parte, vuoi dire, c'è il rutilare dell'industria che crea quella lì, io dico sempre, vai nel metropolitano a Milano, stai fermo e senti... Perché? No, senti un teoretico. Allora, non dico che quello è bello, però, tra fare la difesa della quasi della nevrosi della metropolitana, a dire quanto è bella la malora che dalle due alle cinque, se tu devi andare a comprare un pacchetto di sigarette a Biscegli e devi andare a sbattere la testa a un tumore perché è tutto chiuso, c'è una via di mezzo, allora in quella via di mezzo c'è una nuova identità meridionale, per quanto mi riguarda, e questi libri, per quel poco o tanto che possono servire, servono anche a questo. A Taranto ci sono delle eccellenze grandiose, cioè il sistema tarantino ha creato, dicevo, il sistema venoso dell'Europa attraverso oleodotti e metanodotti con i tubi fatti al siderurgico. La Belleli faceva le più grandi piattaforme petrolifere al mondo. Il vino di Manduria è una delle eccellenze italiane. Si racconta che pochi mesi fa è stato venduto un cavallo di murgesi, addirittura uno in miro arabo, cioè vendere i cavalli tarantini agli arabi, è come vendere il ghiaccio agli squimesi. A Nardò, a pochi chilometri da Taranto, ci sta una pista per il collaudo delle automobili che è la più moderna di Europa. Non solo, l'Istat ci dice che nella graduatoria per dei tumori come causa di morte, la provincia di Taranto è al 73esimo posto, quando invece Imperia e Sondrio e Pavia sono agli ultimi posti. Allora all'uomo di comunicazione io chiedo, come mai Taranto è stata sui mass media così demonizzata? Qual è stato, non il meccanismo per demonizzare, perché quello è facile, ma la causa della demonizzazione. Allora guardi, lei ha fatto un esempio per me che un po' mi commuove, spiego perché, io di solito, cioè io tra l'altro potrei far parte della, chi mi conosce lo sa, della categoria di quelli che si lamentano la storia dell'acciaio a Taranto, perché è vero che, mi racconto, mio padre e mia madre si sono conosciuti in fabbrica. mio papà è stato alla matricola numero 16 del assunto di Talcider, io l'ho perso esattamente 30 anni fa, nel novembre dell'86, vi dico sempre, per una malattia non estranea a causa di lavoro, per una forma di leucemia legata a delle radiazioni che diciamo quasi certamente erano legate ai macchinari, che servivano a fare cosa? A fare i tubi, mio padre finì la carriera come direttore dei tubifici, era il capo dei tubifici e io mi ricordo a casa c'era una cartina dove ogni tanto diceva, vedi qua, se tu vai qua, 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 questi ci sono, questi gli oliodotti, qua c'è scritto Taranto, c'è scritto di Talcider Taranto e io, come dire, amavo e rispettavo talmente tanto il lavoro di mio padre che, questo lo racconto nel secondo pezzo della trilogia teatrale, Acciaio Mare, io scrissi proprio quando, dopo il sequestro alla fabbrica, successe il disastro della comunicazione a Taranto, sono stato, non mi dietero neanche alcun posto dove farlo, Acciaio Mare, tant'è che dovemmo prendere un auditorio, un parrocchiare di periferia perché non mi davano i teatri, non mi davano i cinema, perché io non dicevo quello che andava di modo a dire e che tuttora va di modo a dire, anche se ormai per fortuna, dico, certa retorica apocalittica, io li chiamo gli ambientali qualunquissimi, sono inventato un termine, Taranto si muore, i tumori, la strage, poi le statistiche non dicono così, no ma ci sono le malattie, ma c'è un rapporto di tutto dall'ASL di Taranto fino all'Istituto Superiore di Sanità che ti dice che la situazione di Taranto non presenta delle patologie differenti rispetto a una città che è più inquinata di Taranto che Roma dove io vivo, quindi diciamo il tema degli olodotti o dell'eccellenza o delle grandezze di questo territorio e del perché. Allora qui secondo me si innestano due, si innesta vuol dire il peggior meridionalismo con il fatto di aver toccato comunicativamente le corde di un sentimento che quando si attiva nell'essere umano è incontrollabile, che è la paura. Allora il peggior meridionalismo qual è? La lagna. Taranto è la provincia, ma soprattutto Taranto è credo la città italiana che ha avuto nella storia più trasferimenti statali pro capite per persone. Quindi è una città a cui lo Stato nel bene o nel mare sì e poi sentono sì ma c'è l'inquinamento, l'industria, sì certo, però era anche la città che nel 73 aveva un reddito medio pro capite uguale a quello delle città del nord, che era una città piena occupazione. Tanti si dimenticano di dire che il progetto, diciamo, della grande industria tarantina, ci fu il rapporto del 71-72, prevedeva lo sviluppo della città fino a mezzo milioni di abitanti, con l'inurbazione intorno a Mar Piccolo, bisogna fare il porto turistico, quindi la città praticamente doveva finire, doveva adesso via Remagna Grecia, che si chiama Corso Venezia, quando io forse manco ero nato, queste cose lo so, eh? Viale Venezia c'era ragione, che era famoso perché c'erano le signorine, come dire, le camminatrici, sì, quindi doveva fermarsi lì Taranto, quella doveva essere una specie di tangenziale, doveva chiudere la città perché il resto della città va a svilupparsi. Invece l'imprenditoria tarantina ha speculato creando quartieri orribili, non la grande industria, non i ternani o i genovesi, sono stati tarantini che hanno deturpato la loro città, sfido qualcuno di no, perché chi è che ha costruito tre, quattro quartieri, rioni d'Italia e bevete che sono belli? No. Chi è che ha votato le varianti di piano regolatore che hanno fatto in modo che il lungomare, che nei progetti di arrivare fino a San Vito si fermasse con un palazzone grigio e blu dopo un chilometro e mezzo di lungomare? Chi l'ha fatto? La grande industria, lo Stato o l'hanno fatta i politici tarantini con i palazzinari tarantini? Chi ha fatto la sala sul Gherese? La mia nonna che era al Gherese, la mamma di mia mamma mi ci portava in gira, io ho avuto la fortuna di avere una nonna che tu non sai, mia nonna era la maestra del Gidio Giusti, ai tamburi, io vado ai tamburi a scuola perché mia nonna insegnava i tamburi, abitava da tutt'altra parte e andavo tutti i giorni, l'ho deportato dal mio padre che poi andava in stabilimento e quindi ho fatto elementare i tamburi, per quello quindi è un quartiere che conosco, ci ho fatto l'infanzia, ci ho passato 5 anni e mia nonna era una che era innamorata di Tarantino, pur non essendo tarantino, come spesso capita, i più grandi amatori di Tarantino, amanti di Tarantino non sono tarantini, uno dei posti più belli che sono stati rifatti, che è lei Stocca qua vicino, non l'ha rifatto un tarantino, ma l'ha fatto un salentino, Franco Colombo, per dire, ma gli episodi si... Ma l'attività egregia, scusami se ti interrompo, che sta portando avanti l'ammiraglio Ricci al castello aragonese, fatta da non un tarantino. Per fortuna c'è Carmelo Fai, ci sono adesso delle realtà che anche di Tarantino, però tendenzialmente... allora dicevo, che cos'è che si è innestato? Da un lato la lagna, tipicamente che è un vizio del meridionalismo, quello di lagnarsi, di lamentarsi, di stare così braccia con sé, dall'altro, e la richiesta di altri soli assistenziali, dall'altro, questo tipo di lagna si è incrociata appunto con la manipolazione del sentimento, ripeto, che quando si installa in un essere umano provoca che la paura. Evidentemente se tu, prendendo dei rapporti, mazzicando qua e là, e grazie anche, come dire, grazie all'operato egregio, metto sempre tutto tra virgolette, di una serie di comunicazioni suicidi e tarantine, se tu metti insieme queste due cose e riesci a veicolare l'immagine di una città che io ho sentito dire, Taranto è la città più inquinata d'Europa, a Taranto c'è stato l'olocausto, correggetemi se sbaglio colleghi, ma non credo, tanto è stato l'olocausto, strage di Stato, e via dicendo, giornalisticamente se Taranto non avesse queste forme di inquinamento, supposte, poi l'ultimo rapporto dice che non è così, per fortuna, se non avesse queste forme di inquinamento non sarebbe in materia di notizia giornalistica. E soprattutto, aggiungo, quindi, questo è stato di cose, lo dicevo per un'intervista a Cosmopolis di qualche giorno fa, per cui il loro giornale è stato accusato di aver dato spazio a questo tipo di idee, che secondo me è semplicemente il buonsenso, io feci anche una battuta, dissi poi, ma se Taranto è in questa situazione, lasciamo l'ilva e evacuiamo i Tarantini, no, dico, per provocazione, cioè se questo disastro totale non è recuperabile, anche chiudendolo stabilito, cioè, se hai questo, sposti la città, dico, evidentemente è una provocazione, prima che qualcuno, hai detto che questo, no, non ho detto niente, era una battuta, però quando tu hai degli individui, diciamo, dei giornalisti che hanno fatto pessimo giornalismo per ricavarsi qualche piccolo spazio di notorietà fuori città, quando tu hai delle associazioni, dei politici che sono diventati, come ho chiamato, imprenditori politici della paura, adesso la parola populismo è un termine che va molto di moda, il populismo sono 25 anni che l'ho studiato all'università, ce l'ho scritto, questo è più che proprio imprenditoria politica della paura, cioè utilizzare e forzare, diciamo, la, cioè stimolare i sentimenti e le emozioni, le emotività più profonde delle persone e attivare il meccanismo della paura. Se a questo ci aggiungiamo che sono state fatte campagne ad opera di Tarantini, di manifesti 6x3 con foto, taranto, queste ciminiere, questo fumo incredibile, i bambini di Taranto vogliono vivere, dico, ma se lo dite voi che là si muore, quindi a Taranto si muore, quindi come è successo, mi dice, ma tu sei di Taranto, senti, ma io sto andando in vacanza e entrino in Starento, passo da Taranto, ma giuro, ma dobbiamo alzare i finestrini, poi vedi le statistiche, lei ha citato l'Istat, poi c'è Italia Oggi con la sapienza di una decina di giorni fa che dice che Taranto sulla questione dei tumori è a metà classifica in Italia, quindi non ci sono, certo, se tu prendi, come ha fatto questo studio, i quartieri appiccicati allo stabilimento, ripeto, bisognava fare quello stabilimento lì, certo che no, bisognava farlo così grande, certo che no, ma col seno del poi nel 60 non avrebbero buttato giù, perché prima nel 1960 alle masserie ci vivivano i pastori con le pecore cascala tutto a pezzi, gli olivi erano simbolo di povertà secolare, evidentemente se avessimo avuto nel 1960 la saggezza del 2016, quegli olivi sarebbero lì, quelle masserie sarebbero lì e noi avremmo un apparato agrituristico incredibile che altro che il basso Salento. Angelo, non è un caso che sorga lì lo stabilimento, senza dubbio, e anche lì altre operazioni di speculazione. Ma no, il Consiglio Comune di Taranto nel volgere di una nottata cambiò la destinazione d'uso di quei terreni, perché dovevano essere vicini ad un grande prelato Tarantino? Tra l'altro, la storia la dobbiamo raccontare. Ma lì la storia la dobbiamo raccontare tutta e va tutto bene così, però se voi prendete un... Avrebbero potuto costruire anche via d'Aquino, avrebbero detto sì sempre. C'era la cosa famosa di Piazza La Vittoria, pure in Piazza La Vittoria avrebbero messo il siderurgico, però io quello che ho fatto, io mi ricordo quello che dico sempre, mio padre faceva parte di una generazione appunto dei primi 25 assunti, dei primi 25 matri, che era fermamente convinto che l'industrializzazione avrebbe cambiato e migliorato il volto del nostro meridione, questa è una terra povera, poverissima. Qualche Tarantino si arrabbia a Taranto, prima dell'unità d'Italia, cioè prima che lo Stato s'abbaudo, l'arsenale, guarda il tetto dell'arsenale, perché è fatto così e non così? Perché è fatto a spiovente? Il tetto dell'arsenale è fatto a spiovente, erano fatti i piemontesi, perché gli ingegneri piemontesi, visto che c'era la neve, stavano a fare i tetti a spiovente, in qualche senso a fare un tetto a spiovente. Tutti i tetto dell'arsenale sono fatti così e tant'è che Taranto è talmente, tanto dire, statocentrica che, che cosa c'è in fondo alla via del passeggio dello struscio tarantino? C'è l'arsenale militare, perché tutta la pianta della Taranto moderna, dopo, fuori dalla città vecchia, è stata fatta con una concezione militare, guerriera, poi Mussolini si era città d'impero, però era fatta così, è tutta la pianta, è piemontese, l'arsenale è fatto da ingegneri piemontesi, gli ammiragli che hanno amato Taranto, Tarantini, ce n'erano pochissimi, in più poi è arrivato tutto il resto, ma prima dell'unità d'Italia Taranto era una città chiusa, tra Porta Lecce e Porta Napoli, dove vivevano 18.000 persone stipati come dei livelli di malattia pazzeschi, perché era una città sporca, era piccola, era chiusa, era una città povera, dove i nobili non vivevano a Taranto. I nobili venivano qua per fare la vendemmia per l'olio e poi se ne tornavano a Napoli. Questa è Taranto. Poi la città, è per quello che io difendo 150 anni di unità d'Italia di storia industriale tarantina, perché se prima fosse stato l'Eden, questo era una città povera, ma hanno criticato, detto che era un tugurio. Taranto è una città povera, malsana, dove appunto vivono 18.000 persone ammassate uno sopra l'altro, con una concentrazione abitativa. datevi a vedere, e dico sempre, signori, il passaggio di concentrazione abitativa, c'è di numero di persone per stanza, prima e dopo la storia della siderurgia a Taranto. Si passa da una situazione da terzo mondo a una situazione per cui, civile e contemporanea. C'è tutta sta roba qui. Noi che possiamo prendere e buttare, dimenticatore, perché? Al netto del fatto che ritengo che, e l'ho fatto, sono stato uno dei pochi, che la campagna giornalistica mediatica che è stata fatta da alcuni tarantini contro Taranto, perché è contro, per scopi, come dire, di rendita giornalistica, politica, di visibilità, è una roba che si ritorcerà contro questa città ancora per decenni, perché adesso come vai a spiegare alla gente, perché poi, come dire, le cose fanno sempre, cioè se io vengo accusato di pedofilia, vado sulle prime pagine, quando poi mi assolgono, la pagina 18 non se la accorge nessuno, rimarrà sempre l'alia, per cui Taranto per decenni sarà ancora la città dove i bambini muoiono per strada, dove succedono cose inenarrabili, dove c'è un superiore di sanità, ci dice che per fortuna la situazione non è rosea, attenzione, è meno peggio di quella che si pensasse, anche lega ambiente ha detto non è buona, ma non è neanche l'apocalissi, io scrissi un pezzo mesi fa, in cui dicevo, ma quando si mettono anziché di cianciare un rapporto, una relazione, una notizia, tutte le istituzioni e gli istituti, non le associazioncine, no, le istituzioni sanitarie, e insieme elaborano un rapporto in cui ci dica, la verità è su Taranto, lo voglio sapere, perché se Taranto è, bisogna prenderà, cioè si sono messi, ASL, ARPA, istituzioni per la sanità, eccetera, eccetera, e ci hanno detto questo, quindi a me di quello che poi dicono le associazioncine, che però poi fanno i comunicati stampa, che qualche giornale riprende perché fanno notizie, a me quello che dicono non interessa, so solo che per quanto mi riguarda sono i responsabili di una campagna di devastazione delle immagini di questa città, che questa città e questo territorio sconteranno per i prossimi decenni, e io personalmente da Tarantino sono, non sei indignato, sono un cazzato con una biscia per questa cosa. Però tu vagli a raccontare a chi ha avuto, no scusami, vagli a raccontare a quello che ha avuto la morte in famiglia di due parenti ed attribuiti, o vagli a raccontare a coloro i quali hanno dovuto subito, sì, ma io lo racconto a me stesso, ma ripeto, se come diceva prima il nostro amico, io non sono né un medico, né un tossicologo, né un epidemiologo, sono uno che ha avuto tanti anni di studi di sociologia, quindi di statistica, ne capisco, ma se le statistiche dicono che sulla situazione di tumori Taranto è a metà classifica, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che evidentemente, perché io l'ho visto, sai che cosa è successo quando scoppiò tutto il casino e la gente doveva fare le class action contro l'ILBA? Che arrivava, se io ho il tumore al seno è colpa di l'ILBA, sapendo benissimo che con il tumore al seno, ecco, questo è l'imprenditoria politica della paura, quindi il dire ci sono i morti, i morti, adesso dicono, non infiliamoci in questa, perché io vedo i dati, le statistiche, che ci sono alcune forme tumorali, ripeto, non sono epidemiologo e non vi permetto di, non faccio il medico, però so che ci sono alcune tipologie di malattie che sono direttamente legate come possibili case di inquinamento, che sono pezzi, altre no, quindi non è tutti i malati di l'ILBA sono colpa del l'ILBA, perché i tumori purtroppo ci sono vunti. No, Angelo, forse perché non mi hai fatto terminare quello che volevo dire, il concetto è, vagliala a raccontare a quello che coltivava le cozze, che gli hanno distrutto l'attività. Ma quello gli ha distrutto il PIC, ma gli ha distrutto l'ILBA, questo è la marina militare e il PCB, tra le tante cose, per il mare piccolo non l'ha inquinato e si delugica. Quando gli hanno, è stato costretto colui che vendeva le cozze a mangiarsela davanti, facendo vedere che non c'era la cosa che ti poteva portare a morte, quindi parlo di comportamenti anomali dell'uomo, dell'uomo. Le cozze tarantino hanno avuto una decrescita, adesso lentamente una decrescita. Perché con la storia di guardare al passato in modo non nostalgico, tu dici ok ci hanno distrutto, facciamo vedere che il nostro prodotto è valido, cioè c'è una ripresa di coscienza. L'ASRE di Taranto dice che le cozze tarantine sono le più sicure al mondo perché sono stracontrollate. Il problema è che quando tu hai un prodotto stracontrollato che viene da un territorio dove fino a due anni fa non le compravano perché c'era la diossina nelle cozze. Ma che l'ho detto io che c'era la diossina nelle cozze o quello che vedi sui giornali o che leggi delle stesse persone, mi dico che bisogna rilanciare la meticoltura. E poi va a vedere che i campionamenti sulla diossina erano stati fatti in maniera scorretta. Però adesso, e quindi c'è un ripartire. Ci sono i comportamenti anomali degli uomini che hanno modificato un territorio nel bene e nel male. Ma questo è senza dubbio. Allora fortunatamente si sta avendo la forza di trovare quei rimedi e di cercare di risolvere una problematica che ha segnato violentamente il nostro territorio. La complessità di Taranto sotto gli aspetti ambientali e sanitari è una complessità che trascende anche i rapporti che possono essere stilati da questo a quell'autorità. Perché Angelo faceva riferimento al rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità. C'è un rapporto Sentieri che dice altre cose. Però è uno storico. Il rapporto Sentieri fa riferimento come base statistica solo ed esclusivamente a aree a rischio. Quindi sono tutte situazioni di inquinamento. Qui c'è da chiedersi agli uomini della comunicazione quanto è diminuito il valore del patrimonio industriale di Taranto. A chi lo andranno a regalare adesso che nessuno vuole più avere a che fare con l'ILVA e andrà a finire in mani straniere. Allora il quesito che io pongo agli uomini di comunicazione è stata la strategia politica del politico ignorante che non sa spendo progettare il futuro. Nuove attività industriali, nuove attività produttive. Creare maggior reddito inventa un pericolo per dire io ti difendo dal pericolo. Oppure c'è stata anche una manipolazione oppure c'è stata una manipolazione per ridurre il valore di alcune aziende da vendere poi sul mercato mondiale. Io dico questo, che la situazione tarantina va vista anche nei suoi risvolgi. Adesso al di là dei quartieri, lei parla del quartiere Tamburi, parla di Polo VI, parla di Porta Napoli, parliamo di una fetta grossa della città perché se poi noi andiamo lì a misurare gli abitanti siamo intorno ai 50.000-60.000 abitanti perché soltanto il quartiere Tamburi ha 40.000 abitanti. 30.000, 30.000. Mettiamo Polo VI, Porta Napoli, quindi parliamo di un terzo della città, non parliamo di dimensioni ridotte. Ma l'eccezionalità tarantina è anche fatta di demagogia a buon mercato, un tanto al chilo, che viene oggi, per esempio, portata avanti dal nostro Presidente della Regione. Perché questo bisogna dirlo. Allora io sono arrabbiato con colleghi, tra l'altro gli stessi... Non posso parlare in merito, faccio finta di non sentirti. Non posso, faccio finta di non sentirti, se no mi agito. C'è una questione, per esempio, che viene... Io da Tarantino sono arrabbiato su questo punto di vista, perché veniamo trattati veramente come un popolo con l'anello al naso. Cioè, il Presidente della Regione, che dice delle corvellerie, e noi siamo l'unico giornale a scriverlo, in assoluto a Taranto, dice delle corvellerie che non stanno né in cielo né in terra, quando parla di decarbonizzazione. Quello è un impianto che non può essere decarbonizzato. Noi usciremo nei prossimi giorni con un articolo circostanziato di un fisico, di un esperto di impianti siderurgici. Ma perché non facciamo parlare gli esperti? E questo esperto interverrà, il Professor Venosi, dicendo che non è possibile che un impianto come quello Tarantino sia un impianto che possa cambiare il suo sistema produttivo e quindi abbandonare il carbone per fare altro. Il Presidente di Regione, che dice queste cose, e quindi infonde delle speranze che non sono speranze che poi attecchiscono, non sono aderenti alla realtà, è di una gravità unica. Un Presidente di Regione, che voi qui a Grottaglie ne sapete qualcosa, con il suo piano di riordino ospedaliero, taglia gli ospedali. Perché poi l'eccezionalità tarantina, Angelo, è fatta anche da un'offerta sanitaria che non è corrispondente all'emergenza di questo territorio. Non è possibile che questa sia la città dove, al di là dei vari studi, perché io adesso non mi appassiono a questo, altrimenti diventiamo anche noi, come dire, la curva sud di una tesi. Io non voglio essere curva sud, voglio cercare di ragionare, perché il ruolo poi di chi fa comunicazione è cercare di ragionare, cercare di portare il dibattito sui temi veri e sul merito. Ma non è possibile che questa città e questa provincia non abbia, nella sua offerta sanitaria, complessivamente considerata, la pediatria oncologica, non abbia la chirurgia toracica. Il rapporto che esiste per l'acquisto degli acceleratori lineari, che sono quelle macchine che servono per la cura dei tumori solidi, in tutta Italia è di un acceleratore lineare ogni 200.000 abitanti. A Taranto questo rapporto diventa di un acceleratore lineare ogni 300.000 abitanti. e allora il Presidente della Regione, che è firmatario della legge di riordino del piano ospedaliero, non può da una parte ingraziarsi i Tarantini o gli ambiental qualunquisti che Angelo definisce e dall'altra può intervenire a gamba tesa sull'offerta sanitaria di questo territorio e sui propositi di questo territorio. Allora c'è lì anche, come dire, una adulterazione del dibattito, perché poi quei giornalisti quei giornalisti e quei colleghi che oggi fanno gli ambientalisti tucu erano gli stessi, che sino a qualche anno fa erano invece industrialisti convinti e i giornali presso i quali lavoravano sposavano le tesi, non soltanto dell'industria, ma addirittura ricevevano ordini su quello che andava scritto e su quello che non andava scritto. Cioè il sistema malato della stampa e della comunicazione tarantina non inizia soltanto con i giornalisti che oggi fanno del terrorismo sugli aspetti ambientali, noi non ci siamo dimenticati per esempio che c'era un dirigente dell'ILVA che chiamava i giornalisti e diceva che cosa andava scritto, archinà. Noi abbiamo dimenticato che c'erano dei giornalisti... Ma adesso invece una cosa sullo stomaco ce l'ho, scusate, perché tanti non stanno... Io, Reo, devo essere Reo confesso di una cosa. Qualcuno sa che io da quattro anni e mezzo vengo accusato di essere... beh, dico, non faccio quasi più giornalista, io faccio un'altra attività, fare televisione, fare programmi, non è fare giornalista, loro fanno i giornalisti, io non faccio più giornalisti. Io intanto scrivo delle cose, o sostengo delle cose, perché qualcuno mi legge, se no, insomma, me la canta... Si sostiene che io sia una... al soldo della grande industria, poi vorrei avere al soldo di... Io ho fatto un documentario che spero prima o poi manderebbe un'onda su Rai 1, dentro l'ILVA di Taranto, sono stati gli unici che abbiamo portato le telecamere dentro lo stabilimento. Io per fare quel documentario, che è meraviglioso, mancavano da decine di anni le riprese dell'ILVA, sono stato quasi un mese dentro lo stabilimento, perché me lo sono rigirato, ritornando a fare i vecchi panni, rindossando i vecchi panni, quindi il militante sul campo delle riprese, mi sono stato accusato di tutti quelli che sono al soldo, che mi pagavano i Riva, corrotto, in un sistema, tra l'altro, in cui non ho mai appartenuto, per cui i Riva non li ho mai visti, non ho mai parlato, con questo Girolo Marchinai, non sapevo chi fosse, perché non mi occupavo di stabilimento, non sapevo, e magari sono le stesse persone che mi insultano, sono quelli che quando alzavo il telefono, prendeva e impartiva dichiarazioni su come devono essere fatti i comunicati stampa. Il problema anche grave, vedi Vincenzo, di questa città, è che per esempio, anziché prendersi da domenica, guarda sbagli, le tue sono sbagliate, no, sei venduto, vuoi tutti i morti, vuoi che la gente muovi di tumore, vergognati, venduto, che non puoi parlare di Taranto perché vivi a Roma, io faccio sempre stesse abbatute, non puoi parlare di tamburi se vivi a Alemagna Grecia, non puoi parlare di Grottaglie se vivi a Montegliasi, ma che cazzo vuol dire? Allora non puoi parlare di Siria se abiti in Italia, non si può parlare di Taranto che sei a Roma, i tuoi figli non li porteresti, oh i nostri figli vivono qua, e poi scoprono da una ricerca che dove abitano i miei figli è peggio, perché mia regina Margherita che è la zona del quartiere Trieste, è un quartiere meraviglioso, evidentemente molto inquinato, quindi io magari porterò i miei figli a Taranto per farli stare meglio, vorrei portare i miei figli a Taranto, il mio obiettivo è quello di trovare in questa terra, non dico il prima possibile, ma quando la vita me lo consentirà, perché è bello così, ma è proprio anche la cattiva qualità del dibattito, l'insulto, appunto vuol dire il monopolio, l'impresa politica, allora quello che andrebbe fatto è che per esempio io vedo Cosmopoli sia un giornale, per quanto giornale online, che a me piace, io mi sono sempre letto, è la prima volta che lo dico, non in pubblico, non ho detto manco a Vincenzo, io l'ho sempre letto e continuo a leggere, perché è un giornale pacato, ma non pacato, vuol dire avere una moderazione argomentativa, non significa essere moderati, uno può essere radicale, dire delle cose anche molto forti, ma dirle educatamente, non è che se Carriera non la pensa come me, è venduto, è un pezzo di fango, o che ne so, o io se sostengo le ragioni dell'industria a Taranto è perché l'ILVA mi paga, perché poi insomma a un certo punto mi sono anche incavolato, ho detto, ma il prossimo mi dice che l'ILVA mi paga, ci vediamo in tribunale, mi hanno detto, e cosa continua, che io sono negazionista, cioè se tu dici che a Taranto l'inquinamento non fa strage, sei negazionista, vorrei ricordare, la parola negazionista è brutta, cioè il negazionismo, se uno apre il vocabolario, il negazionista è colui che nega l'olocausto, cioè il negazionista dice non è vero che sono morti 6 milioni di ebre nei campi di concentramento, quindi io che dico che a Taranto la gente non muore per salire di tumore, sono negazionista, quindi sono come quelli che negano la soluzione finale, per Taranto quello è il suo tutto, perché se io sono negazionista vuol dire che a Taranto c'è stato l'olocausto, allora se un pezzo di città e anche come dire sulla carta pure con 4, non 4 titoli, con 2 lauree comprate non so dove o rimediate con i punti miralanza come si diceva dice che a Taranto c'è stato l'olocausto, ma uno ma che puoi fare? Evidentemente loro avranno più udienza e audience mediatica rispetto a uno dice guarda che a Taranto non c'è l'olocausto, io mi vorrei concentrare su quanto belli sono i delfini del mio piccolo, in Mar Grande che fa la Ionian Dolphin Society insomma che io ho seguito molto che c'è l'oasi già del WWF nel Mar Piccolo adesso che Taranto ha una serie oggi di bellezze ma se qualcun altro dice che c'è l'inferno ma perché io devo venire a fare anche passare pure due giorni in una città dove c'è la catastrofe l'inferno l'apocalisse l'olocausto cioè evidentemente tu andresti a fare vacanza all'inferno io no fare il turista dove c'è l'olocausto dove i bambini muoiono come mosche come zanzare o come formiche io francamente non credo che sia così ma lo dicono adesso anche i rapporti scientifici e per fortuna per fortuna anche le scolaresche non facevano gite a Taranto per questo motivo ma sarà sempre peggio per vent'anni fin quando non la smettono sarà sempre peggio e poi c'è ma c'è poi però e qual è il futuro di Taranto il turismo ah fino a ieri c'è la situazione io non voglio citare una delle associazioni che più si è scaldata perché per l'intervista ha fatto a Cosmopolis a un certo punto la grande conclusione ecco regimi se sbaglio incenso nella risposta che ti è arrivata è che dicevano se io fossi il sindaco di Roma bloccarei il traffico a Roma o no ha detto questo bloccarei il traffico a Roma le macchine niente più e io vorrei capire chi abito a 12 km da dove lavoro in una città fatta come è fatta Roma io come con salite e discese che non è manco piatta io dico sempre Taranto è una città questo si iscrive in una logica che ha questa brutta espressione la soluzione è che non si è per il bus la decrescita felice nessuna decrescita può essere felice è decrescita felice per cui una contraddizione interna sono cose molto alla moda perché raccolgono oggi anche un po' un sentimento comune che è quello di arretrare perché la modernità deve essere raggiunta attraverso cioè sono quelle iperbole o quelle contraddizioni in termini che oggi a Roma bisogna chi c'è a Roma non ci dovrebbero essere più traffico certo se noi avessimo tutti quanti in bagarre però ecco gli ambientalisti garantini che si scagliano contro il giornale perché ha intervistato Mellone io quell'intervista la rifarei cento volte perché ritengo che un giornale è tale se è realmente pluralista e se le posizioni possono essere messe a confronto anche le più diverse e disparate ma perché gli ambientalisti tarantini per esempio non non inveiscono contro un imbonitore come Emiliano perché? questa è la domanda che io mi faccio l'ambientalismo tarantino io sono un ambientalista noi abbiamo organizzato una marcia per la vita noi abbiamo sempre detto senza sé senza ma che la vita è valore supremo se non c'è la vita non ci può essere la presentazione dei libri non ci può essere l'amore non ci può essere la superstizione non c'è niente non c'è niente anche questa contrapposizione finta c'è la morte che qualcuno ha voluto portare avanti viene prima la vita viene il lavoro ma è chiaro che è una contrapposizione stupida se non c'è vita non ci può essere nulla però dico ecco perché? e perché l'ambientalismo tarantino se la prende con chi se mai ospita un'intervista e fa del giornalismo pacato come diceva Angelo e non se la prende invece con chi viene qui a raccontare cose che non sono né in cielo né in terra perché? perché l'ambientalismo tarantino come dire adotta nelle proprie fila coloro i quali sono stati sempre dall'altra parte della barricata ma che oggi siccome sono saliti tra l'altro Flaiano diceva che noi siamo un paese in cui a salire sul carro dei vincitori non ci vuole nulla è accaduto con il fascismo nessuno era fascista dopo che l'Italia fu liberata sul corso il vincitore adesso lo dice uno che non ha nulla a che fare con quella storia ma lo dico anche per rispetto per la coerenza dei comportamenti che non abbiamo mai avuto allora a Taranto oggi si crea una situazione di questo tipo per cui chi veramente tratta i tarantini come se noi avessimo tutti l'anello al naso viene passato per essere il salvatore le posizioni diverse che invece secondo me vanno tenute assieme vanno contemplate perché questa città non esce fuori dal dramma nel quale si è cacciata e che l'hanno cacciata se non affronta le questioni nella loro complessità e quelli sono visti come i nemici come quelli che vanno ghettizzati come i diversi o come è stato detto persino a me in questi giorni che con quella intervista io mi sarei venduto alla grande industria e che ormai sarei sul libro paga delle lobby dell'acciaio io non conosco un produttore di acciaio in vita mia non l'ho mai incontrato no no parlo della mia esperienza forse tu da dirigente hai come dire un osservatorio diverso ma io parlo di me io ci ho messo quattro anni e mezzo per lottare per entrare dentro lo stabilimento se questo è perché un'intervista viene ospitata su un giornale e allora non ci dobbiamo poi razzelare del fatto che la questione tarantina si presti ad una lettura integralista perché questo tipo di reazione lasciano chiaramente intendere come ormai il seme dell'integralismo più becero attecchisce ottunde le nostre intelligenze e quindi passa quel giornalismo che definire il giornalismo secondo me definirlo anche in maniera di inquinamento perché noi potremmo anche venire fuori noi potremmo anche venire fuori dall'inquinamento ambientale nel quale oggi siamo ma sarà molto più complicato secondo me venire fuori da un inquinamento delle coscienze da un inquinamento delle intelligenze e soprattutto da una libertà di giudizio che in questa città in questa provincia io porto l'esempio spesso del presidente della regione il quale non deve venire a fare campagna elettorale sulla pelle dei tarantini perché le sue mire di come dire crescita politica legittima come dire in politica se si fa politica si fa perché ci debba essere una crescita io quindi non metto questo in dubbio Emiliano può fare la sua battaglia politica ed è giusto che la faccia ma non venga a farla sulla pelle dei tarantini raccontando cose che non sono proponibili e soprattutto parlando come colui che deve salvare questa terra quando lui è qui a Grottaglie ripeto voi ne siete testimoni con il suo piano di riordino ospedaliero ha fatto tutt'altro che salvaguardare questa provincia o dire che lui è anche un tarantino noi avevamo già un presidente di regione che diceva che voleva adottare Taranto abbiamo visto che fine ha fatto quindi di adozioni a distanza non ne abbiamo bisogno lei ha perfettamente ragione bisognerebbe però far capire un pochettino fuori dalla Puglia quello che Emiliano sta facendo perché non viene fuori qui sembra che Emiliano voglia fare il salvatore della patria ma questo non è e questo non è io voglio dire noi che usciamo sui giornali che parliamo e noi parliamo contro Emiliano contro questo piano di riordino che è fatto con i piedi non con la testa e non per la salvaguardia della salute del cittadino però rimane sempre chiuso qui quindi io faccio giusto così un appello se qualcuno riesce a far parlare di quello che realmente avviene di quello che veramente Emiliano sta facendo qui in Puglia nella zona di Taranto usando i malati oncologici usando i bambini perché lo ha detto non ricordo Vincenzo cioè il piano di riordino onestamente non 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 è la misura giusta per dire abbiamo questo abbiamo salto io vi faccio curare no io vi faccio continuare a morire questo è il suo piano di riordino quindi ma se rimaniamo chiusi nel nostro ghetto non riusciamo a nulla ma io è al dirigente Rai che sto chiedendo io ho cercato sì il frattimento tutto ciò che vuole mi scusi non so come fare sì ma onestamente la gente di Grottaglie perché hanno chiuso e stanno chiudendo l'ospedale facendolo cronicario cioè non si nasce più a Grottaglie si può soltanto morire ed è così e la gente lo può dire tranquillamente cioè non sappiamo veramente come fare per far parlare di noi di questo piano di riordino di Emiliano dello scempio che sta convinando nella Puglia fuori però dalle mura della Puglia io questo le chiedo una mano sorollatamente perché ripetono io mi ricordo per esempio che quando due presidenti della regione fa parliamo di Raffaele Fitto Fitto fece un piano di riordino ospedaliero le lotte delle varie cittadine contro il piano di riordino ospedaliero erano tutti i giorni sui giornali nazionali e perse le elezioni su questa cosa sbaglio la tempistica no sbaglio la tempistica sì certo perché certe cose si fanno all'inizio e alla fine di un mandato elettorale e se non le deve fare queste sono le banali regole delle campagne elettorali adesso parlo dal mio vecchio mestiere perché ho fatto l'inviato di politica per tanti anni quindi faccio finta di tornare indietro e che cosa è successo è successo ripeto non faccio quando un leader magari in questo caso un leader regionale ovunque gli sia utilizza il proprio territorio come punta di lancia magari per farsi una campagna elettorale permanente perché noi siamo in fase di campagna elettorale permanente un modello che ormai funziona anche proprio di lettura dei fenomeni politici per cui si è sempre in campagna elettorale e utilizza questa situazione come Grimaldello come asse come rete per criticare il governo per scavarsi un spazio importante visibilità politica dentro o una maggioranza di governo o un partito politico smette di essere amministratore e diventa leader politico che non sono spesso la stessa cosa perché per dire io che di sinistra non sono al balottaggio a Roma non ho votato ma avrei votato Giacchetti perché a me sembrava e nessuno tuttora convinto più adatto a fare il sindaco rispetto all'attuale giunta con l'attuale con l'attuale sindaco quindi il problema è che però ci sono anche ci sono delle situazioni e capitano per una serie anche di coincidenze e con intanto alcuni personaggi vanno mediaticamente di moda per cui se ne parla bene delle cose che fanno che non vanno non se ne parla perché ci sia malafede appunto ci sono i prezzolani non ne sto facendo una è probabilmente quello che le descrive una situazione di questo genere però le mode come spesso finiscono la proposta adesso la facciamo qui come avviene nei consigli comunali mozione dobbiamo mandare Carucci a Roma alla vita indiretta a farsi portavoce delle esigenze dei cittadini di Grottaglie per l'ospedale San Marino questo sei in grado di poterlo fare è un impegno che puoi prendere stai guardando Carucci non occupandomi più della vita indiretta da due anni è un po' difficile io davvero mi sto occupando adesso sto facendo il Capodanno le proiettiche sono bellissime io sto continuando a non rispondere come le devo dire adesso prendo in mano la situazione visto che fino ad ora sono stata pubblico di un bel dibattito su ambiente sanità e industria ioniche direi che il tempo non c'è per continuare a parlare del libro anche se avrei avuto diverse domande da fare però una curiosità da donna vorrei scusate se interrompo l'argomento industria ambiente ma siamo qui per presentare il libro abbiamo il libro tornando alla cultura perché parlando di cultura abbiamo spaziato verso altro la cultura che racconti nel libro è una cultura matriarcale è una cultura che vede il padre all'altro quasi inesistente infatti non parlano mai i padri parlano solo le madri le madri e le nonne se ne parla se ne parla come persone che stanno lì poveretti si sono trovati in quella situazione quindi è una struttura matriarcale la mia domanda era proprio è casuale o è una assolutamente casuale nel senso che poi casualmente accadono cose che devono accadere perché soprattutto la Lucania è una terra a fortissima tradizione la Lucania insieme a le zone della Romagna dove c'era la re d'ora come dicono i romagnoli che era un po' la reggitrice di casa e comunque ha una ma anche alcune zone della provincia hanno una forte matrice matriarcale la composizione delle famiglie no e anche in questo caso sì mi è servito a soprattutto la nonna di 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 sì Carmelina la nonna di Maria parliamo di Carmelina entra Carmela però non è la nonna di Maria no è mia moglie ah lei non è stata innamorata di un carabiniere nel 50 no perché Carmelina era stata innamorata appunto poi è un po' più anziana c'è 86 anni insomma se ci avesse la signora si riporterebbe meravigliosamente Carabiniere Tarantino intraprendente per essere il 50 sì sì un po' lumacone questa cosa in effetti non ci ho pensato ma hai ragione però lì viene naturale perché lì è la donna che comanda cioè questa cosa di questa donna che come dire rinuncia all'amore per avere la sicurezza come sapete come tanti voi sanno prima i matrimoni spesso erano fatti di commercio due famiglie si mettevano d'accordo tu sposi mi sono andato a trovare un bellissimo libro sulle tradizioni della Basilicata dove c'erano c'erano anche le quotazioni e quanto corredo quanto dato quanto dato questo 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 ma erano dei contratti poi anche dei primi del novecento quindi non parliamo e in quel caso comunque la donna veniva venduta c'era tutta una cerimonia per cui la famiglia dello sposo andava dalla sposa poi i due genitori si mettevano da parte il padre della sposa il padre della sposa io ti do questo tu come mi dai tu i miei figli poi se c'è la pagna a sei a me mettono un po' di ansia in questo caso mi le salvo però due figure molto differenti di donne reggitrici di casa la nonna di Maria che è proprio la capofamiglia che fondamentalmente ha una montola si ha sposato un bravo uomo ma un bravo uomo punto anonimo mentre lei è più colta e più sveglia la madre di Giuseppe che comunque è quella che regge la casa che è fondamentalmente la invece la classica madre italiana che magari tiene tutto su di sé cucina per tutti lava ma ancora consente al figlio a 40 anni di avere la stessa camera da letto che c'aveva quando aveva 16 ancora col poster del Milano del 1988 che evidentemente qualcuno di voi avranno visto la camera di Ricky Memphis in immaturi è di quello che non vuole crescere a mamma che ti cucino stasera a mamma sei andata al calcetto apri la cosa e portala via io che ho avuto come dire la fortuna 17 anni in 12 mesi di andarmi di casa ho imparato a lavare a stirare mi sento un maschio emancipato da questo punto di vista rispetto a qualche mio coetaneo che non ha mai fatto una lavatrice vita sua e quello quindi un'altra figura di mamma che comunque tiene la casa però tiene anche la chioccia la mamma chioccia che anche in parte un po' in parte di Argentina c'è il titolo di un suo libro maschio solitario adulto maschio solitario adulto un altro libro meraviglioso molto bello però insomma questa cosa del matriarcato mi ci ha fatto pensare però sì lì mi è venuto a spuntare però grazie dell'osservazione poi c'è un'altra cosa che invece ho osservato io mi hai fatto guardare a uomini e donne con altri occhi perché io prendo sempre in giro mia madre e mia nipote che guardano uomini e donne guardando il libro leggendo il libro l'ho visto invece come un fattore sociale differente cioè una sorta di ponte fra generazioni attraverso un programma così frivolo così falso anche loro riescono ad avere un dialogo su quello che accade pur sapendo che è proprio letteratura ho fatto sì sì però è carino è carino che cominciano a fare disquisizione sull'amore è proprio letteratura perché questa sono proprio in mentale però per esempio guarda io quando mi ricordo una cosa che mi colpì voi vi ricordate tanti voi magari l'avranno anche visto quando io per un anno e mezzo sono stato il capo della vita in diretta ero io ed è stato l'anno in cui è arrivato il segreto tanti o tantissimi avranno visto il segreto che ancora vorrei capire qual è il segreto del segreto perché per me è una roba non è perché è inguardabile una storia che non regge è fatta male si vede che è fatta con quattro soldi però chapeau no chapeau a chi ha saputo comprare una serie a bassissimo costo e fare un fenomeno che è arrivato a fare il 38% di ascolti c'era un giornale dedicato c'era un giornale dedicato ma comunque anche lo metti in prima serata per il 15-16 cioè fa e le puntate del segreto costano pochissimo comunque io a c'è tutto mi interrogavo perché comunque come pomeriggio di Rai 1 incominciamo a soffrire un po' il canale 5 è forte è la parte più forte della sua programmazione proprio nel pari insesso proprio per il diario perché c'è un filotto beautiful uomini e donne il segreto poi insomma è un pacchetto di mischiati cioè di programmi molto forte che è difficile da contrastare cioè sono stati molto bravi a creare però io volevo cercare di capire perché no perché perché tutti vedessero a un certo punto scoppia questa maniera del segreto allora mi ricordo erano a scuola Andria a presentare Acciaio Mare ci sono stati veramente 600 studenti e ho chiesto non mi ricordo manco perché bene si sono studiato ragazzi ma una curiosità ma quanti di voi vedono il segreto e un braccio su quattro si è alzato quindi che cosa vuol dire soprattutto ragazzi ovviamente ragazzine ma 14 15 16 17 anni significa che il segreto è per esempio una produzione dove tu metti davanti al televisore tre generazioni ovviamente femminili nipote mamma nonna che sono i miracoli televisivi che ogni tanto avvengono Sanremo è così no Sanremo è classicamente la trasmissione di tutta la famiglia magari anche chi non vede Mare 1 si vede Sanremo perché puoi vedere che tutta la famiglia si guarda Sanremo il segreto è così uomini e donne io ho immaginato questa cosa della nipote ovviamente una scena periferica di una piccola casa di una piccola casa io sono un po' l'ossessione di uomini e donne l'ho messo anche in addirizzo ogni tanto la tiro fuori per uomini e donne perché devo dire la verità anche facendo il mestiere che faccio poi certi meccanismi devi capire uomini e donne come meccanismo narrativo ovviamente non sto dando un giudizio morale che sarebbe altro ma come meccanismo narrativo è diabolicamente perfetto quindi c'è non è un programma da poter fare io sarei contrari se mi dicessero facciamo uomini e donne in Rai non è un programma da servizio pubblico però uomini e donne proprio non lo è la stessa idea del tronista c'è il meccanismo del corteggiamento che uomini e donne istituzionalizza e perché si è ossessionato? non lo so perché io ho le sue ossessioni ho l'ossessione di uomini e donne non ti sei dato una spiegazione? no no mi danno l'anima infatti in questo caso addirittura talmente ne sono ossessionato che l'hanno birido perché addirittura nonne e nipote come si ricorda utilizzano uomini e donne per parare d'amore per parare i sentimenti per parare la prima volta della nipote del primo bacio della nonna che non ha dato al nonno giustamente la nipote la guarda dicendo ma come non hai dato il primo bacio al nonno no ma come perché giustamente tutti noi nipoti pensiamo che nonno e nonna non hanno sesso neanche come genitori cioè non hanno mai stanno là noi siamo nati quindi tu immaginate che nonna abbia avuto un fidanzato abbia baciato prima di nonno era nel 50 poi tra l'altro quindi abbiamo segnato un brano quando la nonna dice a Maria che il suo primo bacio non l'ha dato al nonno e Maria scrive Angelo resto ammirata dall'impeto e dalla fierezza con cui la nonna descriveva quello schiaffo perché la nonna si ribella e dà uno schiaffo si perché lui fa un po' oltre il bacio è un cifone dietro il gove tieni le mani a posto insomma era questa e quindi descriveva quello schiaffo e la difesa del suo onore di donna inviolata ma leggeva nei suoi occhi il dispiacere per un gesto che era figlio della reputazione e non del cuore e che a essere sinceri avrebbe barattato volentieri con qualche gemito sul lenzuolo cioè questa nonnina di 84 anni è fatta anche lei di carne e ossa è fatta di carne e ossa quindi lei da un lato il fatto di essere una ragazza meridionale della provincia di Madeira nel 1950 che già si era spinta con questo Tarantino poi dell'altro il carabiniero Tarantino con Marcello che è la scusa per tornare a Taranto non vi dico perché perché c'è il pezzo sul Taranto appunto lega non dico cosa però c'è tutto mi immagino proprio questa scena di lei che si fa trascinare da questo impeto passionale per cui addirittura va a fare una passeggiata con lui via da Pisticci passeggiano e vanno dietro un covone e si baciano quindi scandalo lui va e lei gli tira un cerfone e lo caccia perché per un fatto di reputazione ma dentro di sé infatti fa il sorriso ha reputazione però che caspita quanto era bello ha perso l'occasione insomma perché non era la sua vita cioè lei sceglie come dire la tradizione in questo la continuità e di non dispiacere la famiglia e baratta la reputazione con l'amore con la passione ma credo insomma quante di queste storie noi adesso siamo nell'epoca del sesso come dire che di mano non solo libero del sesso mi è diventato merce friabile banale invece lì era una cosa che immaginare lei col carabiniere che si bacia non deve essere tipo scandalo al sole vi ricordate un film di anni 70 ogni epoca quindi immagini una scena quasi pornografica di lei che si fa mettere le mani però poi si ricorda quindi tirancefone lo caccia e non si vede non più fino a fino a per ricordarlo per 60 anni con rimpianto e con un pupazzo con un pupazzo con rimpianto meno male che si riprende il pupazzo però si riprende il pupazzo sì noi dobbiamo chiudere io avrei voluto chiedere altre cose ma ci siamo dilungati su altro e adesso c'è la consegna dei libri alle scuole e noi ringraziamo nuovamente la Euronet per aver voluto fare questo gesto ha investito in cultura è il nostro autore di diversità non so quanti territori possono vantare il fatto che un'impresa dica non vogliamo comparire non c'è alcun interesse però noi diamo un contributo perché si acquistino dei libri credo che sia un elemento anche di vanto per grottaglie che esistano imprenditori di questo tipo grazie quindi i ragazzi sì ci sono gli insegnanti perché i ragazzi non sono potuti venire tranne di una scuola la cosa di spot al libro che ho chiesto preteso ottenuto dall'editore di tenere il prezzo del libro come dire infinitamente basso molto contenuto rispetto ai prezzi non male proprio perché sono una fiabba a me piace che questo libro se lo leggano è con le famiglie perché l'ho dato ho usato come editor mia figlia che compie 11 anni ad aprile e se l'è letto volentieri insomma poi alla fine lui è il professor Vito Amico del Don Milani Pertini grazie il professor Castellana del Moscati di Grottaglie prego tu te grazie grazie che vale lei si chiama? Alessia Alessia con la professoressa Sunna del liceo artistico grazie buonasera grazie per questa serata peccato non averla potuto fare a scuola penso per i tempi perché anch'io sono stato come dire messo al corrente questa mattina noi abbiamo fatto la circolare però veramente tra i tanti impegni anche della scuola purtroppo i ragazzi non sono stati presenti se ci sarà una ben che minima possibilità di avere il direttore del noi al liceo sarebbe cosa gradita e vorrei farle una domanda a nome dei ragazzi se lei andando indietro nel discorso che avete fatto se lei ora fosse il 19enne ora e non quando lei è andato via da Taranto o fosse laureato oggi cosa farebbe o quali consigli darebbe ai giovani laureati tarantini della provincia di Taranto ma lo stesso che mi si è ridato quando non penso che sia cambiata molto io penso che tutti quanti cioè chiunque dovrebbe avere dico sempre un po' il dovere di partire per poi tornare il problema è che deve essere messo nelle condizioni di partire quindi avere un sistema di istruzione che premi migliori e poi non tutti tutti quanti dobbiamo partire uguali in asse di partenza senza nessun tipo di quindi questo è un problema quindi relegato soprattutto allo stato di salute della scuola pubblica italiana ma tutti quanti vorrei soprattutto la possibilità di tornare cioè io quella famosa parola che lei ha detto depauperamento depauperamento elementi del territorio quindi se elementi migliori vanno ormai possiamo dire all'estero non più in Italia altrove è chiaro che sì questa è una forbice che si allarga sempre di più e che fin quando questo non invertirà perché prima chi partiva prima partiva come dicevamo noi immigrati noi meridionali partiamo con le valigie di cartone adesso parti con l'iPad cioè parti col tablet e parti forti magari di competenze che dice vabbè Massimo le vado a spendere altrove guadagno di più faccio più carriera più successo mi realizzo il sogno sarebbe quello di ogni meridionale non quello di come vorrebbe qualche tarantino avere la pensione a 40 anni il sogno di ciascuno dovrebbe essere quello di avere una terra che garantisca ai propri figli la possibilità di appunto viaggiare partire realizzarsi poter scegliere non per cui non deve essere obbligato a ritornare ma deve avere la possibilità di farlo grazie alle sue idee ma grazie anche a un territorio che diventa incubatore di queste idee e consente a queste idee per esempio di diventare imprese io dico sempre una cosa tanto per dire il cattivo meridionalismo Taranto ha avuto per decenni la più grande acciaieria europea la più grande acciaieria mondiale ditemi quante imprese nei decenni tarantine hanno prodotto fatto manufatti con l'acciaio dei dalsider nessuno e allora lì cos'è colpa dello Stato del destino cinico e baro no è colpa di un'imprenditoria sfittica però ci sono dei segnali di presa un po' sparsi questa generazione ce ne diciamo i veneri di oggi sono super digitali super computerizzati super contemporanei evidentemente con un senso anche delle radici molto diverso anche rispetto a quello già della mia generazione per non andare indietro nel tempo super iperconnessi io credo che per come è fatta la Puglia dico parlo di Puglia in generale entro i prossimi 20-25 anni questa sarà una regione che darà a tutti quanti grandissime soddisfazioni io di questo ne sono fiducioso l'ultima domanda troppo di saperla la fiducia si chi piangersi addosso ma ricominciamo da qua diciamo la mancanza o la carenza di università lei pensa che nei prossimi 20 anni potrà essere colmata diciamo grazie al lavoro anche dei politici ma guarda forse io questo su questo tema dell'università dico una cosa che vado sempre controcorrente io non sono per un'università in ogni città perché poi alla fine tu devi avere è come gli aeroporti noi devi fare 10 aeroporti in Puglia che non servono poi di una terra che è così dove per andare da Castaneda Marina a Lecce ci ho messo un'ora e dieci a Brindisi ancora di meno tu devi avere una terra che sia ben connessa che abbia dei centri di cerche importanti magari diversificati per cui dice lo stesso foro universitario si specializza in differenti pezzi di territorio allora non è che ogni città di Brindisi o di Foggia perché non serve a niente significa prendere fondi avere 10 rettori 10 vicirettori 25 presidi non serve assolutamente a nulla invece servirebbe avere un'università più diffusa sul territorio dove magari la specificità cioè Taranto dovrebbe occuparsi di ambiente di acciaio di siderurgia di medicina perché comunque ci sono i problemi di scienze del mare ma mettere una facoltà di giurisprudenza a Taranto che tu sai essendo io favorevole per esempio all'abolizione del valore legale del titolo di studio perché il valore legale del titolo di studio è la migliore forma di sopravvivenza delle università inutili o degli esamifici perché siccome ti fa punteggio la laurea allora tu non vai dove l'università è migliore spesso vai dove ti laurei prima o riesci a laurearti se fosse tolto il valore legale del titolo di studio quindi tu vai a vedere non se ti sei laureato ma dove come e con chi la laurea all'università telematica avrebbe nulla quindi l'università telematica chiuderebbero e le università entrerebbero in competizione tra di loro per offrire la qualità migliore cioè io sarò per il massimo di fino al liceo per il massimo di inclusività di valore pubblico che si stanno in istituzione ma all'università in poi il massimo di competizione anche tra le università per il bene degli studenti poi perché ringraziamo le scuole ringrazio Angelo Mellone per la sua grazie a due ore e un quarto Grottaglie è una città attiva Grottaglie deve confrontarsi non può non può tacere sembra quasi una trasmissione di porta a porta quello diciamo a telecamere stessi grazie a Roberto Burano e l'ultima cosa noi ci ritroviamo qui venerdì 23 dicembre con Maurizio Bolognetti e il libro Buchi per terra 50 sfumature di greggio grazie grazie a tutti